dopo una traversata felice ma per me piuttosto faticosa giungemmo finalmente in porto non appena sceso a terra presi con me i miei pochi averi e facendomi largo attraverso la folla brulicante entrai nella locanda più vicina assai modesta alla cui porta vi di appesa un insegna dissi che desideravo una camera il servo mi squadrò e mi condusse in soffitta chiesi un po d'acqua fresca e mi feci indicare con esattezza dove avrei potuto trovare il signor thomas john di fronte alla porta nord della città la prima villa sulla destra una grande casa nuova di marmo rosso e bianco con molte colonne bene era ancora presto slegai subito il mio fagotto levai l'abito nero rivoltato di recente indossai per bene i miei migliori indumenti e infilata in tasca la lettera di raccomandazione partì immediatamente alla ricerca di chi avrebbe dovuto aiutarmi a realizzare le mie modeste speranze risalita la lunga strada a nord una volta giunto alla porta scorsi subito attraverso la vegetazione il luccichio delle colonne ecco mi è arrivato pensai mi spolverai le scarpe con il fazzoletto mi sistemai il fulare intorno al collo e raccomandandomi a dio suonai il campanello la porta si spalancò nell'ingresso dovetti subire un interrogatorio ma il portiere mi fece infine annunciare ed ebbi l'onore di essere invitato nel parco dove il signor john stava passeggiando in compagnia di alcuni amici riconobbi subito l'uomo dal modo compiaciuto con cui ostentava la propria opulenza mi ricevette molto cordialmente così come è solito fare un ricco con un povero diavolo si rivolse persino a me senza tuttavia allontanarsi dal resto della compagnia e prese la lettera che gli porgevo da parte di mio fratello non ho sue notizie da molto tempo sta bene vero e senza attendere la mia risposta continuò rivolto alla comitiva laggiù farò costruire la mia nuova dimora indicò con la lettera un colle ruppe il sigillo ma non troncò la conversazione che verteva sulla ricchezza chi non possiede almeno un milione soggiunse e mi si perdoni la parola una canaglia oh com'è vero esclamai mosso da un sentimento irrefrenabile questo dovette piacergli perché mi sorrise dicendo rimanga qui caro amico più tardi avrò forse tempo di dirle cosa ne penso e fece cenno alla lettera e si mise subito in tasca per rivolgersi nuovamente alla compagnia offrì il braccio ad una giovane signora altri gentiluomini stavano d'attorno alle belle dame ciascuno trovò quella che più gli piaceva e tutti si rivolsero verso quel colle coperto di rose in fiore mi accodai inosservato senza essere di peso a nessuno nemmeno un'anima si preoccupò più di me la compagnia era molto allegra ci si trastullava si scherzava talvolta si parlava di cose frivole in modo serio e più spesso di cose serie in modo frivolo e a poco a poco si finì col prendersi gioco degli amici assenti e dei fatti loro io ero troppo estraneo per capire qualcosa in tutto ciò troppo preoccupato e chiuso in me stesso per cogliere il senso di simili allusioni avevamo raggiunto il boschetto di rose la bella fanny che evidentemente era la regina del giorno volle ostentatamente spezzare da sé un ramo in fiore si ferì con una spina e come sgorgato da quelle rose un rivolo di porpora fluì sulla sua mano delicata questo avvenimento mise in agitazione tutta la compagnia si andò in cerca del cerotto inglese un uomo attempato silenzioso di corporatura asciutta alto e smilzo che era con loro e che non avevo ancora notato infilò immediatamente la mano nella tasca che aderiva strettamente alla sua finanziaria fuori moda di taffetà grigio ne trasse un borsellino lo aprì e porse alla signora con un inchino deferente ciò che il aveva richiesto costei prese il cerotto senza prestare attenzione a chi glielo aveva dato e senza ringraziarlo la ferita fu fasciata e si riprese la passeggiata su per un'altura dalla cui sommità si poteva godere un'ampia vista sul verde labirinto del parco fino all'immensità dell'oceano lo spettacolo era davvero grandioso un punto luminoso comparve all'orizzonte tra il blu intenso dei flutti e l'azzurro del cielo a me un cannocchiale sclamò john e prima ancora che la servitù all'udire quest'ordine si mettesse in movimento l'uomo in grigio si era già infilata la mano in tasca ne aveva estratto un bel dolò e con un discreto inchino l'aveva consegnato al signor john questi portandoselo subito agli occhi informò la comitiva che si trattava della nave salpata il giorno prima e che venti avversi trattenevano in vista del porto il cannocchiale passò di mano in mano senza tornare in quelle del proprietario io osservavo meravigliato quell'uomo e non riuscivo a capire come quello strumento ingombrante fosse uscito dalla sua minuscola tasca tuttavia sembrava che nessuno avesse notato questo fatto e non ci si preoccupava di lui più di quanto non ci si preoccupasse di me fu offerto un rinfresco i frutti più rari di diversi paesi nei recipienti più preziosi il signor john faceva gli onori di casa con garbata cordialità e mi rivolse la parola per la seconda volta si serva sulla nave non avrà certo avuto simili vivande feci un inchino ma non mi vide stava già parlando con qualcun altro ci sarebbero sdraiati tutti volentieri sul pendio erboso ad ammirare l'ampio paesaggio non avessero temuto l'umidità del terreno sarebbe meraviglioso disse uno della comitiva se avessimo dei tappeti turchi da distendere in terra non appena fu espresso tale desiderio l'uomo in grigio si mise la mano in tasca e con fare riservato addirittura umile si accinse ad estrarre un ricco tappeto turco in tessuto d'oro dei servi lo presero come se si trattasse di un fatto assolutamente naturale e lo dispiegarono nel luogo desiderato la compagnia vi prese posto senza tante cerimonie io invece continuavo a fissare sbigottito quell'uomo la sua tasca e il tappeto che misurava più di venti passi di lunghezza e dieci di larghezza mi strofinavo gli occhi non sapendo cosa pensare tanto più che nessuno sembrava trovarmi alcunché di straordinario avrei desiderato qualche chiarimento circa quell'uomo avrei voluto chiedere chi fosse ma non sapevo a chi rivolgermi quei servitori dall'aspetto signorile mi intimidivano persin di più dei signori stessi che venivano serviti finalmente mi feci animo e mi avvicinai ad un giovane dall'aria più modesta e che spesso era rimasto solo gli chiesi sotto voce che fosse mai quell'uomo così gentile vestito di grigio quello che assomiglia ad un filo di ref sfuggito al lago di un sarto sì quello che sta sempre solo gli dissi non lo conosco gli rispose mi sembrò che volesse evitare questa conversazione perché si voltò e si mise a parlare con un altro di cose di poco conto i raggi del sole si facevano sempre più intensi tanto da causare fastidio alle signore la bella fanny si rivolse con non curanza all'uomo in grigio al quale per quanto ne sapevo io nessuno aveva ancora indirizzato la parola e gli chiese con leggerezza se per caso non avesse anche una tenda con sé e gli le rispose con un profondissimo inchino come se gli fosse stato concesso un immeritato onore e si portò subito la mano in tasca dalla quale vi riuscire pali corde ferri e arnesi in breve tutto il necessario per allestire il più sfarzoso padiglione i giovanotti aiutarono a distendere la tenda che coprì il tappeto in tutta la sua estensione e non ci fu nessuno che vi trovasse qualcosa di strano già da un po provavo una sensazione di disagio anzi di spavento come non mi sentì dunque quando ad un nuovo desiderio lo vi di estrarre dalla tasca tre cavalli da sella ti dico tre morelli belli e robusti con sella e finimenti figurati per l'amor del cielo tre cavalli sellati sempre dalla stessa tasca dalla quale erano già usciti un borsellino un canocchiale un tappeto lungo venti passi e largo dieci una tenda delle stesse dimensioni con tutti i suoi pali e i suoi ferri se non affermassi di averlo visto con i miei occhi non ci crederesti di certo per quanto imbarazzato e umile mi sembrasse quell'uomo per quanta poca attenzione gli prestassero gli altri la sua smorta figura dalla quale non riuscivo a distogliere lo sguardo era per me talmente orribile da non poterla più sopportare decisi di allontanarmi di soppiatto dalla compagnia cosa che mi sembrava facile considerando il mio ruolo insignificante volevo tornare in città per tentare nuovamente la sorte dal signor john il mattino seguente e se ne avessi trovato il coraggio per interrogarlo circa lo strano uomo in grigio ah e mi fosse riuscito di fuggire ero già sceso in osservato dall'altura attraverso il boschetto di rose e mi trovai in uno spiazzo erboso aperto quando per paura di essere visto camminare sull'erba fuori dal sentiero lanciai intorno uno sguardo scrutatore quale non fu il mio spavento quando scorsi alle mie spalle l'uomo in grigio che si stava dirigendo verso di me non appena mi ebbe raggiunto si tolse il cappello e si inchinò così profondamente come nessuno aveva mai fatto prima non c'erano dubbi voleva parlarmi e non potevo evitarlo senza passare per villano anch'io mi tolsi il cappello feci a mia volta un inchino e rimasi col capo scoperto al sole come inchiodato a terra lo fissavo intimorito e mi sentivo come un uccello in balia di un serpente e gli stesso sembrava molto confuso non sollevò lo sguardo si inchinò più volte infine si avvicinò e mi rivolse la parola con voce sommessa e insicura quasi con il tono di un mendicante signore voglio perdonare la mia invadenza se oso avvicinarmi a lei che non conosco ho da rivolgerle una preghiera mi permetta signore ma per l'amor del cielo signore esclamai in preda al panico cosa posso fare io per un uomo che antolimmo e almeno così mi sembrò arrossimmo entrambi dopo un attimo di silenzio e gli riprese la parola durante il poco tempo in cui ho avuto la fortuna di trovarmi accanto a lei ho potuto osservare alcune volte con inesprimibile ammirazione mi permetta di dirglielo caro signore la sua bella bellissima ombra che lei proiettava al sole a dire il vero con un certo aristocratico disprezzo senza nemmeno farvi caso sì la splendida ombra qui ai suoi piedi voglio perdonare questa pretesa francamente audace non sarebbe per caso disposto a cedermi la sua ombra e gli tacque e a me sembrava di avere una ruota di mulino che mi turbinasse in capo cosa dovevo pensare di questa strana richiesta dove essere matto mi dissi ma risposi con un tono diverso che si addicesse meglio all'umiltà del suo caro amico non le basta la sua ombra questo io lo chiamo un affare assai strano e gli mi interruppe in tasca ho molte cose che vos signoria non potrà certo considerare di scarso valore per questa inestimabile ombra reputo troppo basso anche il prezzo più alto mi tornarono i brividi al pensiero della sua tasca e beh sapevo che non potevo giudicare quell'uomo un amico presi nuovamente la parola e cercai per quanto possibile di reagire con una gentilezza smisurata ma signor mio perdoni il suo umilissimo servo non riesco a capire bene le sue intenzioni come potrei mai cederle la mia ombra e gli mi interruppe le chiedo solo il permesso di raccogliere immediatamente questa nobile ombra e di mettermela in tasca in che modo è affar mio per contro come segno di riconoscenza le offro la scelta tra tutti i tesori che ho in tasca la vera radice di mandragola dei centesimi magici il tallero predone la tovaglia dello scudiero di orlando un diavoletto a prezzo speciale ma forse tutto ciò non è nulla per lei meglio il cappello magico di fortunatus rimesso a nuovo è bello robusto oppure una borsa portafortuna come la sua la borsa magica di fortunatus lo interruppi e per quanto grande fosse la mia paura con questa sola parola mi aveva pienamente conquistato mi girava la testa e davanti agli occhi vedevo scintillare innumerevoli ducati po signoria voglio addegnarsi di esaminare questa borsa e di sperimentarla si mise la mano in tasca ne trasse una borsa non molto grande di robusto cuoio di cordova solidamente chiusa con due legacci di pelle e me la porse vi rovistai e ne estrassi dieci monete d'oro poi altre dieci altre dieci ancora altre dieci sta bene è fare fatto per questa borsa le cedo la mia ombra dissi tendendogli la mano e gli me la strinse si inginocchiò poi subito di fronte a me e lo vidi con sorprendente abilità staccare delicatamente la mia ombra dal prato da capo a piedi arrotolarla piegarla ma infine mettersela in tasca si alzò mi fece ancora un inchino e si ritirò infine dietro a un cespuglio di rose mi sembrò di sentirlo sogghignare tra sé e sé ma io mi tenevo la borsa ben stretta tutto intorno la terra risplendeva al sole e la mia coscienza non si era ancora risvegliato ripreso l'uso dei sensi mi riempì le tasche d'oro nascosi sotto la giacca la borsa magica che mi ero saldamente legata intorno al collo e mi allontana rapidamente da quel posto dove non mi tratteneva più nessun interesse uscito inosservato dal parco ripresi la strada maestra in direzione della città nelle vicinanze della porta le esclamazioni stupite di una vecchietta mi distolsero dei miei pensieri giovanotto ehi giovanotto mi sentite non vi accorgete di aver perso l'ombra sicuro non nina la ringraziai del benevolo avvertimento con una moneta d'oro e cercai di passare inosservato riparandomi sotto gli alberi ma entrando in città fui costretto a subire il sarcasmo della sentinella di turno alla porta e la commiserazione di un paio di donnette signore dove avete lasciato la vostra ombra gesù maria quel poveretto non ha l'ombra la cosa cominciava a seccarmi ed evitai con cura di camminare al sole ma non era sempre possibile dovete attraversare in piena luce una strada assai ampia e per colmo di sfortuna proprio nell'ora in cui era piena di ragazzini all'uscita da scuola mi sembrava ancora di vedere una peste di gobetto che notò subito la mia anomalia e indicandomi con altre grida ai compagni si unì agli insulti al lancio di immondizie verso di me la gente per bene si porta dietro l'ombra quando cammina al sole sentivo gridare da ogni parte per liberarmene ribersagliai di monete d'oro e trovai scampo in una vettura pubblica che qualche anima buona mi aveva procurato finalmente solo in quel rifugio piansi amare lacrime al presentimento che si faceva strada in me capivo che se l'oro fa sembrare all'uomo trascurabili i pregi della virtù e dell'onestà l'ombra può acquistare ai suoi occhi un valore ancora più grande prima di allora avevo preferito l'onestà alla ricchezza e quel giorno ero arrivato a cedere la mia ombra per vile denaro e come come e dove sarei andato a finire quando la carrozza si fermò alla porta della vecchia locanda ero ancora sconvolto e ancora di più mi turbai all'idea di rimettere piede in quella miserabile catapecchia mi feci portare il mio povero fagotto che toccai con una specie di ripugnanza lasciai di mancia alcune monete d'oro e ordinai al vetturino di portarmi al migliore albergo del posto che casualmente era esposto a nord per cui non dovevo avere timore del sole licenza il cocchiere con un lauto compenso mi fece assegnare le migliori camere sul davanti e mi chiusi dentro più presto che potei che cosa ti immagini che io facessi mio caro sciamisso arrossisco nel confidartelo tirai fuori quella dannata borsa e con una smania sempre crescente ne estrassi oro a piene mani finché tutto il pavimento ne fu coperto calpestai quel cumulo tintinnante gustando l'ebbrezza di tanto splendore e caddi infine esausto su quel giacidio luccicante rotolandomici voluttuosamente passai così l'intera giornata dietro la mia porta ermeticamente chiusa arrivò la notte ed ero sempre straiato su quell'oro e fu lì che mi prese un sonno pieno di sogni sognai di te mi pareva di essere dietro la porta a vetri della tua piccola stanza e di vederti al tuo tavolo tra uno scheletro e un fascio di arbe secche notavo persino i titoli dei libri che stavi sfogliando opere di haller cumboldt linneo un volume di goethe e l'anello magico di fouché osservavo a lungo ogni cosa e te in particolare era immobile senza respiro morto mi svegliai non sapevo che ora fosse perché il mio orologio era fermo non doveva essere prestissimo mi sentivo distrutto il digiuno del giorno prima mi faceva soffrire fame e sete mi scrollai di dosso inorridito a quell'oro che ero stato così pazzo da desiderare con tanta cupidicia e che ora mi incuteva solo ribrezzo e fastidio non potevo certo lasciare la stanza in quello stato cercai di rimettere le monete nella borsa inutilmente avrei voluto buttarle in acqua ma nessuna delle mie finestre si apriva sul mare dovetti rassegnarmi a stiparle sudando per la fatica e la rabbia nel grande armadio che trovai in uno stanzino ne lasciai in giro solo qualche manciata poi mi buttai spossato su di una poltrona aspettando un'ora decente per farmi portare da mangiare convocai quindi nella mia camera l'albergatore e presi accordi per l'arredamento del mio alloggio per il mio servizio personale egli mi raccomandò un certo bendel di cui mi piacque subito il viso aperto e leale povero bendel da questo momento sarà proprio lui a mitigare con la sua continua affettuosa presenza le mie pene e a farmi meglio sopportare l'atrocità della mia condizione passai tutta la giornata in camera mia circondato da disoccupati in cerca di lavoro calzolai sarti e mercanti acquistai ciò che mi e soprattutto molti gioielli e pietre preziose sperando di vedere così diminuire il mucchio d'oro nascosto nell'armadio ma inutilmente il mucchio era sempre enorme col passare del tempo non sapevo come comportarmi mi attanagliavano dubbi e angosce non mi azzardavo a uscire di casa e di sera facevo accendere in sala 40 candele prima di lasciare il riparo del buio l'avventura coi ragazzini mi bruciava ancora nel ricordo mi lasciai però tentare dalla curiosità di sottopormi ancora al pubblico giudizio e in una notte di luna piena con un ampio mantello indosso il cappello calato fin sugli occhi e l'ansia trepidante di un malfattore scivolai fuori camminavo furtivo riparandomi nell'ombra delle case poi raggiunta una grande piazza mi esposi al raggio lunare pronto a leggere il mio destino sulle labbra dei passanti come ripeterti amico mio l'amaro racconto della mia mortificazione mi vedevo commiserato dalle donne schernito dai giovani e chiaramente disprezzato dagli uomini specie da certi tipi grassi e ben pasciuti che proiettavano sul terreno una bella ombra larga simili svariate reazioni mi penetravano indistintamente nel cuore come tante stilettate passò ad un tratto una bella fanciulla molto distinta in compagnia forse dei suoi genitori e mentre questi badavano soltanto a dove mettere i piedi si girò come per caso fissandomi coi suoi splendenti occhi ma notando la mia anomalia si avvolse turbata nel suo velo e si allontanò silenziosa a testa china non potei sopportare di più quel supplizio col viso pieno di lacrime e il cuore a pezzi mi ritrai barcollando nel buio dovetti appoggiarmi ai muri nel mio malfermo procedere e arrivai a casa molto tardi non riuscì a prendere sonno indomani il mio primo pensiero fu di fare cercare dappertutto l'uomo dal vestito grigio speravo ancora di riuscire a trovarlo e mi rallegravo all'idea che anche lui si fosse pentito del nostro pazzo affare chiamai pendel che mi sembrava un ragazzo abile e sveglio e gli descrissi minuziosamente il tipo nelle mani del quale si trovava un tesoro la cui perdita aveva reso la mia vita un continuo tormento mi spiegai quando e dove lo avessi incontrato raccontandogli anche tutti i prodigi di cui ero stato testimone e gli raccomandai in particolare di chiedere notizie del cannocchiale dollond del ricco tappeto turco della lussuosa tenda a giardino e infine dei tre morelli esistenza di queste cose era infatti collegata non gli spiegai in che modo a quella del misterioso individuo al quale nessuno aveva dato importanza in casa del signor john ma la cui apparizione aveva significato per me la perdita di ogni senso di pace e di gioia dopo avergli dato tutte queste istruzioni lo rifornì ben bene d'oro gioielli e pietre preziose l'oro apre molte strade bendel e appiana molte difficoltà spendilo pure a piene mani come faccio io va e ritorna con buone nuove bendel partì lo vedi tornare a sera molto addolorato nessuna delle persone con cui aveva parlato in casa del signor john non un cameriere non un ospite si ricordava nemmeno lontanamente del signore dal vestito grigio aveva visto il cannocchiale nuovo ma nessuno sapeva come fosse capitato lì sul poggio facevano bella mostra di sé il tappeto e la tenda e i servi esaltavano la ricchezza del loro signore ma nessuno sapeva come avesse avuto tutte quelle rarità lo stesso padrone di casa se ne compiaceva e non gli importava affatto conoscerne la provenienza quanto ai tre morelli ne aveva fatto dono agli amici che li avevano cavalcati quel giorno e questi ultimi non finivano di tessere le lodi di un signore tanto prodigo qui terminò il resoconto di bendel e malgrado la conclusione infruttuosa dell'impresa dovetti rodare il suo zelo e la sua premura gli feci poi tristemente cenno di lasciarmi solo ma lo sentì proseguire con queste parole le ho esposto quello che ritenevo per lei più importante mi permetta ora di comunicarle l'ambasciata di un signore incontrato questa mattina proprio mentre uscivo di casa mi ha detto testualmente dica al signor peters lemil che non mi vedrà più qui perché mi imbarco dato che il vento è finalmente favorevole fra un anno e un giorno avrò però l'onore di rendergli nuovamente visita e gli proporrò in quell'occasione un nuovo e più vantaggioso affare riporga i miei più devoti ossequi e lo assicuri della mia riconoscenza gli ho chiesto chi fosse ma mi ha risposto che lei lo conosceva bene che aspetto aveva quel uomo domandai con un atroce dubbio bendel mi ripete minuziosamente la descrizione dello stesso individuo se le cui tracce lo avevo mandato a indagare sciagurato gli gridai torcendomi le mani per la disperazione era proprio lui come se gli avessi strappato una benda dagli occhi bendel riecheggiò il mio grido era lui era lui davvero e io cieco e sciocco non l'ho capito subito e ho mancato verso il mio signore il poveretto si copriva dei peggiori insulti e la sua disperazione era così sincera da farmi compassione lo confortai assicurandogli ripetutamente la mia certezza della sua buona fede e lo spedì in tutta fretta al porto sulle tracce del nostro uomo inutilmente purtroppo quel giorno il vento favorevole aveva permesso a parecchie navi di salpare nelle direzioni più disparate e l'uomo in grigio si era dileguato proprio come un'ombra che cosa conta avere le ali se si è chiusi dietro solide sbarre crescono soltanto l'angoscia e la disperazione avevo l'oro ma lo detestavo e come fafner a guardia del suo tesoro ero incatenato a una ricchezza che mi precludeva ogni forma di vita e ogni contatto umano incatenato al mio cupo segreto tremavo di fronte all'ultimo dei miei servi che d'altra parte invidiavo perché avendo un'ombra si poteva mostrare tranquillamente al sole trascorrevo giorni e notti nella solitudine della mia stanza consumandomi di dolore sarà qualcuno che soffriva con me il mio fedele bendel lo vedevo torturarsi silenziosamente per la sua incapacità di riconoscere colui che doveva cercare e che capiva essere arbitro del mio destino da parte mia non potevo fargliene una colpa e vedevo in quello che era successo un altro segno della prodigiosa natura dello sconosciuto voglio fare un ultimo tentativo per rimediare al mio malanno e per mezzo di bendel inviai un preziosissimo anello al pittore più famoso del luogo invitandolo a farmi visita all'arrivo del maestro congedai i miei servi chiusi la porta lo feci accomodare di fronte a me elogiai convenientemente la sua arte e venne finalmente al punto che mi stava a cuore pregandolo di conservare sull'argomento il più assoluto segreto eccoti il nostro dialogo professore potrebbe dipingere un'ombra finta per una persona che ha sfortunatamente perso la propria lei vuol dire un'ombra riflessa proprio così mi permetta ma come ha potuto quella persona essere così sbadata da perdere la propria ombra non ha molta importanza ma glielo spiegherò ed ebbi la faccia tosta di mentire sputaratamente l'inverno scorso in russia soffrì un freddo così eccezionale che l'ombra gli si congelò al suolo e non gli fu più possibile riaverla l'ombra finta che io potrei dipingere sarebbe estremamente fragile e un tipo così poco attento come quello del suo racconto la perderebbe immediatamente a mio parere la cosa più sensata che possa fare chi non possiede ombra è di non camminare al sole si alzò si allontanò osservandomi con uno sguardo penetrante che non riuscì a sostenere ricaldi sulla sedia minascosi il viso fra le mani così mi trovo bendel e vedendomi addolorato avrebbe voluto ritirarsi in silenzio ma io non resistevo al peso del mio segreto e vogli confidarglielo bendel mio caro bendel tu sei l'unico ad avere compassione e rispetto della mia sofferenza senza preoccuparti di chiederne il motivo ma partecipandovi col tuo silenzio e la tua pietà avvicinati ti rivelerò tutto hai le chiavi dai miei forzieri voglio che tu abbia anche quelle della mia anima non mi abbandonare bendel tu mi conosci ricco generoso affabile pensi forse che il mondo debba onorarmi e vedi invece come io lo sfugga e mi isoli il mondo mi ha giudicato e respinto mio caro e anche tu forse mi eviterai conoscendo il mio terribile segreto certo io sono ricco generoso affabile ma oddio non ho ombra non ho ombra esclamò atterrito al bravo giovane mentre gli occhi gli si velavano di pianto quanto è maro il mio destino di dover servire un uomo senza ombra tacque e io mi nascosi ancora il volto fra le mani dopo qualche attimo di silenzio prosegui percorso da un fremito ti ho confidato tutto bendel ora puoi tradirmi va denunciami il giovane mi sembrava agitato da un'intima lotta ma infine si gettò ai miei piedi e afferrò le mie mani coprendo le di lacrime il mondo pensi quello che vuole e io non posso e non voglio abbandonare il mio padrone a causa di un'ombra non voglio comportarmi da furbo ma da galantuomo resterò con lei e presterò la mia ombra cercherò di aiutarla con tutte le mie forze e se non altro soffrirò con lei lo abbracciai forte stentando a credere a una dedizione così poco comune sicuro come ero del suo assoluto disinteresse da quel giorno ci fu qualche mutamento nella mia vita non ti so dire con quanta premura bendel sapesse nascondere la mia anomalia mi seguiva dovunque vicino e discreto e in caso di pericolo era facile coprirmi rapidamente con la sua ombra poiché era più alto e più robusto di me mi arrischiai a mostrarmi di nuovo tra gli uomini ed ebbe il mio posto nel mondo è logico dovetti recitare la parte del ricco stravagante e capriccioso e finché la verità rimase nascosta godetti di tutto l'onore e la considerazione ispirati dal mio oro anche perché i capricci si addicono bene ai ricchi mi preparavo con più serenità al futuro incontro con lo sconosciuto entro un anno e un giorno capivo quanto fosse pericoloso per me rimanere in quel posto dove ero stato visto senza ombra e dove mi si poteva facilmente riconoscere bastava opprimermi il solo ricordo delle miserabili condizioni in cui mi ero presentato in casa del signor john mi tratteneva solo il desiderio di mettermi alla prova per presentarmi altrove con maggior sicurezza in me stesso successe però qualcosa che lusingò per un breve periodo la mia vanità questo abisso dove è così facile che prenda fondo l'ancora della fragilità umana proprio la bella fanny incontrata in casa di comuni conoscenti senza ricordarsi di avermi già visto si degnò di ascoltare le mie brillanti battute di spirito ora infatti mi seguiva un uditorio sempre attento e non saprei dire come fossi riuscito ad avere una conversazione così piacevole e briosa mi resi conto che la giovane donna non era insensibile al mio fascino e questa constatazione mi fece girare la testa proprio come lei desiderava e cominciai a corteggiarla con mille precauzioni badando che i nostri incontri si svolgessero nell'ora del crepuscolo o nell'ombra mi compiacevo nel vedere una donna tanto orgogliosa darsi da fare per irretirmi con le sue grazie ma benché mi ci mettessi di proposito non mi riuscì di tradurre in sentimento quell'infatuazione perché ripeterti in lungo e in largo una vicenda comune me ne hai narrate anche tu di simili sul conto di rispettabilissime persone ti basti sapere che la vecchia farsa alla quale partecipai in un ruolo scontato ebbe un epilogo catastrofico che fu come un fulmine a ciel sereno per me per la ragazza per tutti una bella sera avevo come di consueto invitato in un giardino splendidamente illuminato una brigata di amici dai quali mi separai per passeggiare al braccio della mia diletta sussurrando le frasi galanti lei teneva gli occhi pudicamente abbassati e rispondeva dolcemente alla pressione della mia mano improvvisamente alle nostre spalle la luna fece capolino dalle nubi e fanny vide proiettarsi in terra una sola ombra trassa lì e guardò interdetta a me il terreno intorno a me cercando la mia ombra stupore e turbamento si dipingevano con tanta evidenza sul suo viso che sarei scoppiato a ridere se non mi fossi sentito gelare la lasciai in deliquio sfrecciai tra gli ospiti attoniti e raggiunto il cancello piombai nella prima vettura e me ne tornai di gran carriera in città dove questa malaugurata volta avevo lasciato il previdente bendel il mio stato lo spaventò una parola bastò a spiegargli tutto mi procurai dei cavalli veloci e partì immediatamente con un solo servo un birbone matricolato di nome rascal che aveva astutamente saputo rendersi indispensabile e che era all'oscuro dell'incidente capitato mi in una notte di viaggio percorsi più di trenta miglia bendel mi avrebbe raggiunto con gli oggetti più necessari dopo aver sistemato le mie cose lo rividi infatti il giorno dopo e mi buttai fra le sue braccia giurandogli che non avrai più commesso simili follie e sarei stato in futuro vigile e prudente il nostro viaggio proseguì ininterrottamente né voglio fermarmi prima di aver messo fra me e quel dannato paese un alto baluardo naturale solo sull'opposto versante montano oltre la frontiera mi lasciai convincere a riprendere fiato dopo tanti strapazzi in una piccola e isolata località balneare c'è un periodo della mia vita del quale ti racconterai tanto volentieri ogni particolare se soltanto riuscissi spiritualmente a riviverlo al contrario mi vedo costretto a sorvolare perché si sono ormai spenti nel mio ricordo i colori che lo vivificavano e a ogni mio tentativo di ritrovare dolori felicità illusioni di quei giorni si oppone l'asprezza di un cuore ormai fossilizzato nella più amara insensibilità come mi sembra diverso quel tempo lontano si ripete l'antica commedia e questa volta dovete investirmi di un ruolo epico che recitai male per la mia inesperienza e perché distratto da un paio di occhi azzurri i genitori dell'amata di turno presi nel gioco non pensavano che ad affrettare la conclusione della farsa che fu per tutti un fiasco solenne e questo è tutto tutto mi sembra impossibile poter giudicare con tanto distacco quella che un tempo era tutta la mia vita o mina piansi allora nel perderti e piango oggi per averti definitivamente persa in me stesso sono tanto invecchiato dunque che cosa darei per un istante di quei giorni per un palpito di quella illusione e invece no tua amara saggezza sono prigioniero della tua sterile solitudine e lontano è ormai il ricordo delle coppe di champagne e dei folletti gentili che ne sprizzavano fuori avevo incaricato bendel di cercarmi una casa adatta lui non aveva lesinato il mio oro e poiché volevo mantenere l'incognito mi aveva descritto in paese come un nobile forestiero questo indusse buona gente del luogo a strane supposizioni quando la casa fu pronta bendel tornò a prendermi e ci mettemmo in cammino a circa un'ora di strada dal paese su un ripiano solleggiato dovemmo fermarci perché circondati da una piccola folla di gente vestita a festa fui stordito dai suoni di fanfara scampanì salve di cannoni grida di evviva un corteo di fanciulle vestite di bianco si avvicinò allo sportello della carrozza erano tutte bellissime ma una splendeva fra le altre come il sole fra le stelle della notte fu proprio lei a rompere il cerchio delle compagne a inginocchiarmisi davanti arrossendo deliziosamente e a porzermi su un cuscino di seta una corona di ramoscelli dall'oro di ulivo e di rose indirizzò anche un saluto nel quale ricorrevano le parole maestà amore rispetto che non capì completamente ma il cui timbro argentino mi colpì piacevolmente l'orecchio e il cuore mi sembrava inoltre di aver già visto quella delicata immagine le mie fantasticherie furono interrotte dal coro che intonava le lodi di un buon sovrano e il giubito del suo popolo e tutta questa scena amico mio in pieno sole avevo quella splendida fanciulla a due passi e non potevo superare lo spazio che ci separava per gettarmi ai suoi piedi che cosa non avrei dato per un'ombra dover nascondere in fondo alla mia vettura vergogna angoscia e disperazione per fortuna c'era bendel che si mosse al posto mio e scese dal lato opposto della carrozza lo chiamai tolsi da uno scrigno che avevo proprio sotto mano una preziosa corona di diamanti dono ormai inutile della bella fannì e gliela porsi egli si fece avanti tra la folla e parlò a mio nome spiegando che non potevo accettare quegli atti d'omaggio e che doveva esserci un equivoco aggiungendo però che ero grato a quella buona gente per le sue buone intenzioni accettò la corona di fronde e depose al suo posto quella di diamanti poi offrì rispettosamente la mano alla giovane donna aiutandola a rialzarsi allontanò con un gesto discreto le autorità e non fece avanzare più nessuno pregò la folla di spostarsi per lasciar passare la vettura e risalito al mio fianco ripartimmo al galoppo verso la cittadina sotto un arco adorno di festoni fioriti e tra la salva dei cannoni si fermammo davanti alla mia casa e raggiunsi velocemente la soglia fendendo la folla lì radunata per il desiderio di vedermi feci piovere su di essa delle monete d'oro dalle finestre che mi portavano l'eco di continui e viva quella sera la città era tutta una luce non capivo ancora il motivo di tanti festeggiamenti ma era chiaro che si erano sbagliati sulla mia identità e per esserne certo ma dai rascal in ricognizione la sua resoconto dedussi di essere stato scambiato per il re di prussia era infatti corsa voce che il buon sovrano viaggiasse in incognito per quelle contrade bendel era stato preso per l'aiutante di campo e la sua reticenza aveva confermato le supposizioni di quella buona gente il giubilo popolare non aveva avuto più limiti quando si era avuta la certezza del mio arrivo tutti rispettavano il mio desiderio di conservare l'incognito ed erano mortificati di aver sollevato con tanta indiscrezione il velo della mia vera identità ma sentivano nel mio cruccio una nota di benevola grazia che li rendeva sicuri del mio perdono a quel birbante di rascal il fatto parve così spassoso che fece di tutto per ribadire la dabbenacine di quei poveretti me ne fece un quadro comicissimo e accortosi del mio divertimento arriva persino a vantarsi della sua mascalzonata devo confessartelo mi gli usingava l'idea di passare per una testa coronata feci preparare una grande festa per la sera dopo sotto gli alberi compreggiavano il piazzale davanti alla mia casa invitando tutto il popolo a parteciparvi con il prodigioso potere della mia borsa la solerzia di bendele l'abilità di rascal riuscimmo a preparare tutto in tempo ed è veramente straordinario pensare a come potemmo disporre ogni cosa con tanto splendido sfarzo in così poche ore tanto lusso e magnificenza e più di ogni altra cosa la vivida illuminazione sapientemente disposta tra le piante mi ridiedero tutta la mia sicurezza non potevo lamentarmi di niente i miei servi erano veramente da lodare al calare della sera cominciarono ad arrivare gli ospiti che mi furono presentati uno per uno nessuno mi chiamò maestà tutti si rivolgevano sequiosamente con l'appellativo di signor conte che cosa potevo fare gradì il titolo e da quel momento fu il conte peter tra tanti visi non ne cercavo che uno finalmente apparve adorna della mia corona colei che consideravo la regina della festa discreta seguiva i genitori ignara della propria bellezza me li presentarono come l'ispettore forestale sua moglie e sua figlia fui molto gentile coi genitori ma davanti alla giovinetta non riuscì a spiccicare una parola e mi comportai come un ragazzino colto in fallo le chiesi infine balbettando di essere la regina della festa intimidita mi pregò di dispensarla da tanto onore ma ancora più timido mi inchinai davanti a lei come il suo primo suddito e quel gesto fu un invito e gli altri ospiti si affrettarono lieti a seguire fu un tripudio di bellezza di grazia di innocenza i genitori di mina felici dell'onore capitato alla figlia lo ritenevano un ossequio al proprio prestigio quanto a me ero stordito da una piacevolissima ebbrezza feci riempire due cesti di gioielli e pietre preziose scegliendoli fra quelli comprati per disfarmi in parte del mucchio d'oro di quella famosa notte e li distribuì tra tutte le mie gentili ospiti mentre una pioggia di monete continuava a cadere sulla folla applaudente al di là dei cancelli il giorno dopo bendel mi confidò di aver visto confermate in quell'occasione i suoi sospetti sull'onestà di rascal che aveva approfittato della festa per sottrarmi parecchi sacchi d'oro mi sentivo però benevolo e gli risposi di lasciarlo fare perché se davo volentieri del mio a chiunque tanto più ero felice di beneficare una persona che mi era stata di valido aiuto come tutti gli altri membri della servitù per resto nella realizzazione di una festa proprio splendida non parlamo più di quell'incidente rascal conservò il suo posto di primo cameriere mentre bendel rimaneva il mio amico e confidente doveva essersi abituato a considerare inesauribile la mia ricchezza e non lo incuriosiva conoscerne la provenienza indovinando i miei pensieri mi era piuttosto di aiuto nell'escogitare sempre nuove possibilità di impiego per tutto il mio denaro quanto allo sconosciuto misterioso bendel capiva che era il solo a potermi liberare delle mie pene e sentiva che pur riponendo in lui ogni mia speranza ne avevo paura mi vedeva inoltre rassegnato all'evidente superiorità di quel maligno che mi avrebbe sempre trovato senza mai lasciarsi raggiungere da me consapevole di questa realtà avevo infatti interrotto ogni tentativo di ricerca in attesa dell'appuntamento fissato lo splendore del trattenimento in casa mia e il mio contegno in quell'occasione avevano confermato negli ingenui paesani la convinzione che io fossi il re di prussia quando un bel giorno la stampa smentì la notizia del presunto viaggio del sovrano però il popolo continuò a considerarmi re e uno dei re più ricchi e generosi anche se non sapeva bene quale in realtà il mondo non ha mai dovuto deplorare la mancanza di monarchi soprattutto ai nostri giorni e quella brava gente che non doveva averne visto nemmeno uno fantasticava che io fossi ora questo ora quello il conte peter continuò in ogni modo a essere quello che era passò del tempo e tra i villeggianti capitò un commerciante che aveva dichiarato fallimento per arricchirsi da tutti tenuto in gran conto e con una bella ombra larga anche se un po squallida costui sfoggiava ostentatamente un gruzzolo accumulato e gli saltò il ticchio di competere con me ma bastò che mettessi una mano nella mia borsa per liberarmi di lui lo distanziai così tanto da costringerlo a fare bancarotta sul serio e a cambiare aria allo stesso modo riempì in breve la zona di scioperanti e fannulloni benché mi circondassi di sfarzo e di prodigalità vivevo solo e appartato con una massima cautela ed esigevo che nessuno entrasse per nessun motivo nella mia stanza fuorché bendel finché il sole splendeva il cielo se ne stavamo chiusi di dentro e per gli altri questo significava che il conte era occupato con le sue pratiche convalidava questa ipotesi landi rivieni di corrispondenti di cui mi servivo per ogni più piccolo affare ricevevo solo di sera all'ombra dei miei alberi o in una sala sapientemente illuminata a cura di bendel le rare volte che uscivo protetto dagli occhi d'argo del mio fido era solo per recarmi nel giardino dell'ispettore forestale dove incontravo il mio amore il palpito più segreto della mia vita o mio caro sciamisso mi auguro che tu non abbia dimenticato che cosa sia l'amore e lascio quindi alla tua immaginazione molti particolari della mia storia mina era meravigliosa dolce e paziente avevo riempito di me tutta la sua fantasia e nella sua umiltà lei non poteva comprendere il motivo della mia predilezione e ricambiava il mio amore con l'appassionato slancio di un cuore innocente amava come solo una donna sa amare con dedizione assoluta dimentica di se stessa e tutta protesa verso l'amato incurante del proprio sacrificio in una parola amava veramente quante volte piansi tra le braccia di bendel tremo e mi struggo al ricordo di quelle ore risvegliandomi dalla ceccante ebbrezza della passione per trovarmi nella cruda realtà del mio stato io un uomo senza ombra per il mio sprecevole egoismo stavo rovinando una creatura ingannandola e tacendole la mia vergogna decidevo di rivelarle ogni cosa giurando di essere pronto a staccarmi da lei a ogni proposito si mutava in lacrime e alla fine mettevo tutto il mio impegno nell'organizzare con bendel i nostri incontri serali a volte cercavo di illudermi sulla prossima visita dello sconosciuto e contavo i giorni che ci mancavano ancora lui infatti aveva detto fra un anno e un giorno e volevo credergli vani tentativi che mi riprecipitavano nella mia tristezza i genitori di mina erano due anziane persone rispettabili la mia passione per la loro unica figlia mi mise in serio imbarazzo perché non avevano mai sognato il conte peter nelle vesti di pretendente e lo vedevano addirittura amante riamato la madre era abbastanza ambiziosa per programmare già un matrimonio ma il buon senso del marito imbrigliava le sue avventate fantasie l'unica cosa chiara per tutti e due era la sincerità del mio amore e nient'altro potevano fare se non pregare per la loro creatura ho fra le mani una vecchia lettera di quel tempo sì è proprio la scrittura di mina e te la voglio leggere non ho stata una sciocchina a pensare che tu amor mio poiché ti amo tanto sai tanto non mi avresti mai fatto soffrire tu sei buono indicibilmente buono non mi fra intendere non devi fare nessun sacrificio per me oddio mi odierei se lo facessi no tu mi hai reso infinitamente felice insegnandomi ad amarti va pure so bene che il conte peter non appartiene a me sola ma al mondo intero mi accontenterò di seguire i tuoi successi dai commenti degli altri è diventato celebre ha fatto questo lo hanno supplicato lo hanno colmato di onori vado in collera se penso che dimentichi il tuo destino per una come me lasciami altrimenti questo pensiero mi renderà infelice e sono tanto tanto felice non ho forse intrecciato rami d'ulivo e boccioli di rose nella tua vita come nella corona che ti porsi il primo giorno già nel cuore amor mio lasciami senza timore morirò così felice così infinitamente decidevo di rivelarle ogni cosa giurando di essere pronto a staccarmi da lei ma ogni mio proposito si mutava in lacrime e alla fine mettevo tutto il mio impegno a organizzare con bendel i nostri incontri serali una volta cercavo di illudermi sulla prossima visita dello sconosciuto e contavo i giorni che ci mancavano ancora lui infatti aveva detto fra un anno e un giorno e volevo credergli vari tentativi che mi precipitavano nella mia tristezza i genitori di mina erano due anziane persone rispettabili la mia passione per la loro unica figlia li misa in serio imbarazzo perché non avevano mai sognato il conte peter nelle vesti di pretendente e lo vedevano addirittura amante riamato la madre era abbastanza ambiziosa per programmare già un matrimonio ma il buon senso del marito imbrigliava le sue avventate fantasie l'unica cosa chiara per tutti e due era la sincerità del mio cuore e nient'altro potevano fare se non pregare per la loro creatura ho fra le mani una vecchia lettera di quel tempo sì è proprio la scrittura di mina e te la voglio leggere sono stata una sciocchina a pensare che tu amor mio poiché ti amo tanto sai tanto non mi avresti mai fatto soffrire tu sei buono indicibilmente buono non mi fra intendere non devi fare nessun sacrificio per me oddio mi odierei se lo facessi no tu mi hai reso infinitamente felice insegnandomi ad amarti va pure so bene che il conte peter non appartiene a me sola ma il mondo intero mi accontenterò di seguire i tuoi successi dai commenti degli altri è diventato celebre ha fatto questo lo hanno supplicato lo hanno colmato di onori vado in collera se penso che dimentichi il tuo destino per una come me lasciami altrimenti questo pensiero mi renderà infelice e sono tanto tanto felice non ho forse intrecciato rami d'olivo e boccioli di rose nella tua vita come nella corona che ti porsi il primo giorno io ti hanno il cuore amor mio lasciami senza timore morirò così felice così infinitamente felice ti puoi bene immaginare come quelle espressioni mi trappanassero il cuore cercai di spiegarle che malgrado le apparenze ero solo un povero infelice maledetto da una sventura che doveva restare l'unico segreto fra noi perché non avevo ancora perso la speranza di liberarmene ma la mia vita era avvelenata dal pensiero di trascinare nell'abisso anche lei che era la mia unica luce il mio unico bene tutto il mio cuore mina piangeva vedendomi così infelice a quanto mi amava per risparmiarmi una lacrima avrebbe immolato se stessa era però ancora molto lontana dal capire pienamente il significato delle mie parole e accarezzava l'ipotesi che fosse un principe o chissà quale altro importante personaggio crudelmente esiliato alla sua fantasia dovevo apparire sotto un profilo decisamente eroico una volta le confidai che alla fine del mese avrai potuto vedere cambiato il mio destino o mi sarai ucciso perché non volevo renderla infelice mi nascose il capo sul petto piangendo se il tuo destino cambierà mi basterà saper ti felice perché non ho nessun diritto su di te ma saresti infelice dammi la tua infelicità perché ti aiuti a sopportarla bambina cara ritira le incaute parole che le tue labbra hanno pronunciato tu non sai qual è la mia condanna tu non sai tu non sai chi sono io guarda come rabbrividisco per l'orrore del mio segreto cade ai miei piedi singhozzando e mi ripeté la sua appassionata preghiera dovetti spiegarmi col padre che arrivava in quel momento lo assicurai dell'infinito amore che nutrivo per sua figlia e gli manifestai la mia intenzione di chiedergliene la mano all'inizio del prossimo mese fissai quella data sperando che nel frattempo succedesse quello che veramente poteva cambiare la mia sorte il buon uomo fu fortemente commosso dalle mie parole e mi gettò d'impulso le braccia al collo arrossendo subito dopo per il suo eccessivo trasporto cominciò ad aver dubbi incertezze timori mi parlò di dote e di sicurezza per il futuro della sua figliuola lo ringraziai per avermi fatto riflettere su quei particolari e lo pregai di acquistare per conto mio e di intestare alla sua figlia le migliori proprietà in vendita nella zona dove era mio desiderio stabilirmi e condurre una vita tranquilla mi avrebbe così reso un gran piacere curando nel frattempo gli interessi di mina e gli investì in seguito circa un milione e la faccenda presenta qualche difficoltà perché in ogni affare era in concorrenza con un ricco straniero che spesso riusciva a concludere l'acquisto prima di lui tenerlo così occupato fu un'innocente astuzia per levarmelo di torno perché era un po' noioso sua moglie mi fastidiva meno perché essendo un po' dura d'orecchio non sollecitava troppo spesso l'onore di farmi compagnia torniamo a quella sera si presentò anche la madre di mina e tutti mi pregarono di trattenermi più a lungo ma la mia ansia cresceva minuto dopo minuto perché vedevo già spuntare la luna non potevo aspettare oltre tornai in quel giardino la sera dopo e mi avvicinai impaziente alla mia diletta avevo sulle spalle un ampio mantello e il cappello calcato fin sugli occhi notai che mi guardava con un'impercettibile esitazione mi tornò allora lucidissimo il ricordo dell'apparizione di quella disperata notte di plenilunio nella quale mi era mostrato senza ombra non c'era dubbio avevo visto proprio lei ne aveva riconosciuto anche lei rimase silenziosa e seria e la sua tristezza fu per me insostenibile mi alzai lei mi cadde piangendo fra le braccia fuggì da quel giorno la sorpresi spesso in lacrime e la mia anima ne soffriva atrocemente solo i due vecchi erano persi nella più completa felicità si susseguirono i giorni arrivò quello fatale cupo inquietante come una nuvola di temporale al crepuscolo l'angoscia mi aveva quasi troncato il respiro accumulato un po d'oro che avrebbe potuto farmi comodo pigliavo in attesa della mezzanotte e ora scoccò me ne stavo seduto con gli occhi fissi sulle lancette dell'orologio i secondi ai minuti passavano trafiggendomi come pugnalate ogni scricchiolio mi faceva sussultare violentemente spuntò il giorno le ore rotolarono pesantemente l'una sull'altra fu mezzogiorno sera notte le lancette avanzavano la mia speranza diminuiva alle 11 di sera non era successo niente l'orologio batte il primo rintocco della mezzanotte il secondo l'ultimo persa ogni speranza pianzi senza ritegno nella mia definitiva condizione di uomo senza ombra come avrei potuto all'indomani chiedere la mano della mia diletta un sonno inquieto mi chiuse gli occhi verso il mattino fui svegliato ancora presto da un clamore di voci dietro la mia porta mi misi in ascolto e sentii bendel e rascal litigare violentemente il primo sbarrava il passo all'altro che protestava bestemmiando di non prendere ordini da uno a suo pari e insisteva per entrare in camera mia il buon bendel lo ammoniva di badare a non farsi sentire perché sarebbe stato cacciato su due piedi ma rascal minacciava di mettergli le mani addosso se non l'avesse fatto passare semi vestito spalancai sdegnato la porta gridando a rascal che cosa vuoi impudente prego rispettosamente il signor conte di farmi vedere la sua ombra c'è giusto uno splendido sole in cortile mi rispose freddamente tirandosi solo due passi indietro fui come colpito da un fulmine infatti caia ritrovare il mio sangue freddo come osi rivolgerti così al tuo padrone un servo può essere una degnissima persona interruppe tranquillamente e può ben rifiutarsi di lavorare per un uomo senza ombra voglio il mio ben servito provai a cambiare registro ma mio caro rascal chi ti ha messo in mente un'idea simile come vuoi pensare si dice in giro che lei non abbia l'ombra continuò sempre freddamente ora o lei mi dimostra il contrario o mi dà subito il ben servito bendel pallido e fremente ma più furbo di me mi suggerì con un cenno di provare col denaro ma rascalgettò ai miei piedi quello che gli avevo offerto protestando di non accettare niente da un uomo senza ombra mi giro poi le spalle e usci lentamente dalla stanza col cappello in testa fischiettando una canzonetta restai impietrito con bendel incapace di agire e di pensare alla fine mi avviai sospirando amaramente e con la morte nel cuore a revocare la mia promessa nel giardino che aveva protetto i miei colloqui d'amore e ora mi avrebbe visto come un reo davanti ai suoi giudici mi fermai all'ombra del pergolato che portava il mio nome meta abituale dei nostri incontri e fui subito avvistato dalla vecchia madre che mi venne incontro lieta e serena mina stava a sedere pallida e bella come la prima neve che a volte bacia gli ultimi fiori dell'autunno per sciogliersi poi amaramente in acqua il padre andava su e giù nervosamente con un foglio in mano e il rapido succedersi di rossori e pallori sul suo viso normalmente impassibile mi tradiva l'intima emozione mi si avvicinò precipitosamente spiegandomi con frasi rotte di volermi parlare a quattro occhi e mi invitò a seguirlo lungo un sentiero che finiva nella zona più aperta e soleggiata di tutto il giardino mi lasciai andare muto su un sedile e seguì un lungo silenzio che nemmeno la buona madre osò interrompere l'ispettore forestale continuava a misurare il pergolato a passi nervosi e ineguali in che mi si fermò davanti in silenzio gettò un'occhiata sul foglio che aveva in mano e squadrandomi severamente mi chiese se conoscesse un certo peter schlemil un uomo di ottimo carattere di doti eccezionali proseguì notando il mio silenzio e aspettando una risposta e se fossi proprio io quell'uomo un uomo senza ombra esclamò agitatissimo o il mio presentimento proruppe allora mina certo lo so da tanto tempo che non ha l'ombra e calde tra le braccia della madre che la strinse a sé spaventata rimproverandole di aver taciuto al suo danno un simile segreto novella retusa lei si scioglieva in lacrime che la mia voce la mia presenza facevano sgorgare con maggiore violenza e lei riprese a dire truccia l'ispettore lei ha potuto ingannare con tanto cinismo mia figlia e me e dopo averla così rovinata afferma di amarla non vede come piange e si dispera è terribile è terribile io dovevo aver perso il bene dell'intelletto perché mi sentì dire come un pazzo che in fondo non si trattava che di un'ombra della quale si poteva anche fare a meno e che non valeva proprio la pena di fare tanto rumore sentivo però così chiara l'inconsistenza delle mie parole che ha muto lì senza che l'altro mi degnasse di una risposta aggiunsi solo che quel che si era perso si poteva anche ritrovare mi racconti un po caro signore mi disse allora incollerito come ha fatto a perdere la sua ombra dovette inventare un'altra menzogna un villano me la pestò un giorno con tanta malagrazia da strapparmela e ora ho trovato chi me la giusta e avrei dovuto riaverla già ieri bene signor mio molto bene ora lei chiedo la mano di mia figlia come molti altri del resto ora il mio dovere di padre è di pensare soprattutto al suo bene le do tre giorni di tempo per trovare un'ombra ritorni fra tre giorni con l'ombra ben accomodata e sarà il benvenuto ma ricordi che il quarto giorno mia figlia sarà promessa a un altro tentai di dire un'ultima parola a mina ma la vidi stringersi ancora più fremente a sua madre che mi fece silenziosamente cenno di andarmene mi allontanai barcollando e fu come se mi fossi lasciato alle spalle il mondo intero erudendo la sorveglianza effettuosa di bendel vagai come un pazzo per campi e boschi madido di angoscioso sudore gemendo sordamente quasi in preda alla follia andai avanti non so quanto in quello stato finché su un assolato terra pieno mi senti sfiorare le spalle a muto lì e mi guardai intorno l'uomo dalla veste grigia era lì e sembrava stanco per una lunga corsa le avevo fissato un appuntamento per oggi ma lei non ha avuto la pazienza di aspettarmi cominciò a dire niente però ancora perduto segue il mio consiglio baratti ancora una volta la sua ombra che è a sua disposizione e ritorni nel giardino dell'ispettore forestale sarà il benvenuto e tutto quello che è capitato le sembrerà una sciocchezza quanto a quel traditore di rascal che osa aspirare alla mano della sua fidanzata me ne occupo io la sua ora è suonata mi sentivo come un sonnambulo l'appuntamento era per oggi peccolai una volta ancora il tempo aveva ragione mi ero sempre sbagliato di un giorno cercai la borsa sul mio petto ma quello indovinando la mia intenzione fece due passi indietro no signor conte la borsa è in ottime mani la tenga pure lo guarda interrogativamente con gli occhi sbarrati mentre proseguiva le chiedo solo una piccolezza per ricordo voglia essere tanto gentile da firmare questo foglietto mi forse una pergamena su cui era scritto mi impegno a cedere al possessore di questo foglio la mia anima dopo la naturale separazione dal corpo muto e spallordito fissavo ora il foglio ora lo sconosciuto che nel frattempo aveva intinto una penna d'oca appuntita di fresco in una goccia di sangue sgorgatami da una ferita alla mano e me la porgeva chi è mai lei trovai infine la forza di chiedergli che cosa importa replicò e poi non lo si vede sono un povero diavolo per metà scienziato per metà alchimista riempio i miei amici di eccellenti favori ricevendone in cambio solo in gratitudine e mi concedo l'unico gusto di un po di esperimenti ma or su firmi qui in fondo a destra peter schlemil scossi la testa negativamente contrapponendo alla meravigliata replica del mio interlocutore la mia preoccupata opinione sul rischio di quel nuovo contratto ah è così il sogginolo sconosciuto scoppiando in una larga risata lei si preoccupa dunque ma se mi permette che cos'è infine questa sua anima l'ha mai vista forse e che cosa pensa di farne quando sarà morto si ritenga fortunato di aver davanti un amatore disposto a pagarle mentre lei ancora in vita l'eredità di questa x algebrica di questa forza galvanica di questa entelechia o comunque si voglia chiamare questa stupida cosa disposto a pagargliela ripeto con qualche cosa di reale con la sua amata ombra infine così indispensabile per ottenere la mano della sua fidanzata e il compimento di ogni suo desiderio o preferisce consegnare lei stesso la povera mina nelle grinfie di quelle infame la scal non è possibile voglio che se ne renda conto con i suoi occhi venga sotto questa cappa che rende invisibili e così dicendo estraeva qualcosa dalla tasca e penetreremo non visti nel giardino dell'ispettore forestale non ti nascondo la mia cociente vergogna nel vedermi beffato da un individuo che odiavo così intensamente fu proprio questa antipatia invincibile credo più che qualsiasi principio o pregiudizio morale a trattenermi dal barattare una firma con l'ombra purtanto necessaria non avrei neppure sopportato di fare in sua compagnia il viaggio che mi aveva proposto tutto il mio intimo si ribellava nel vedere frapporsi quell'odioso intrigante quel beffardo spirito maligno fra la mia diletta e me fra i nostri due cuori così sanguinosamente straziati vedevo la mano del destino in quello che mi era capitato e disperavo ormai di risollevarmi dalla mia miseria per cui mi rivolsi a quell'individuo dicendo signore le ho venduto la mia ombra per una borsa che vale molto di più ma ne sono pentito invertiamo i termini del contratto in nome del cielo lo vidi scuotere il capo e farsi torvo in viso non intendo cederle più niente di mio proseguì nemmeno al prezzo della mia ombra quindi non firmo quanto al viaggetto al quale mi ha invitato sotto la sua cappa magica sarebbe forse un divertimento per lei non certo per me voglia quindi scusare il mio rifiuto e mi lasci in pace una buona volta mi dispiace vederla rifiutare con tanta ostinazione un contratto che le proponevo amichevolmente signor Schlemil chissà potrà essere più fortunato un'altra volta arrivederci a presto a proposito mi permetta di mostrarle in quale conto tengo i miei acquisti e tirata fuori dalla tasca la mia ombra la distese con un'amabile mossa sul terreno ai suoi piedi e si mosse tra le due ombre a lui soggette la sua e la mia che doveva forzatamente seguire e assecondare ogni suo spostamento rivedendo dopo tanto tempo la mia povera ombra così degradata proprio quando la sua mancanza mi metteva in un'indicibile miseria mi sentì spezzare il cuore e piansi amaramente l'odioso individuo pavoneggiandosi con la preda a me sottratta rinnovò sfrontatamente la sua proposta niente ancora perduto con un tratto di penna lei può sottrarre l'infelice mina alle voglie di un delinquente e riportarla fra le braccia dell'eccellentissimo signor conte gliel'ho detto solo con un tratto di penna le mie lacrime scorrevano con rinnovata amarezza ma non lo ascoltai e gli feci cenno di andarsene proprio in quel momento arrivò bendel messosi sulle mie tracce in grande apprezzione vedendomi in lacrime vedendo la mia ombra che era impossibile non riconoscere preda del misterioso sconosciuto in grigio il mio fedele compagno decise in un lampo di riavere quanto era mio anche con la violenza intuendo infatti di non poter arrivare a niente con le buone aggredì da prima l'uomo a parole e senza tanti preamboli gli intimò di restituirmi immediatamente l'ombra per tutta risposta lo sconosciuto gli girò le spalle allontanandosi ma bendel gli si mise alle calcagna e continuando a ingiungergli di restituirmi l'ombra cominciò a picchiarlo senza riguardo col notoso bastone che portava sempre con sé facendogli sentire tutta la forza delle sue braccia nerborute l'altro quasi abituato a un simile trattamento curvò il capo tra le spalle e continuò ad avanzare muto e calmo attraverso l'ampia pianura sottraendomi l'ombra e il compagno a lungo mi arrivò cupa nella solitudine l'eco di quelle percosse e poi si spense in lontananza ero di nuovo solo solo con la mia sventura in quella disperata solitudine lasciai ancora una volta libero corso alle lacrime alleviando il peso mortale che pesava sul mio povero cuore non vedevo limiti né via di scampo per la mia miseria e succhiavo con rabbiosa sete il nuovo veleno che lo sconosciuto aveva versato sulle mie piaghe non riuscivo a separare la tenera dolente immagine di mina dal sogghignante fantasma di la scal e se fuggivo coprendomi il viso la mostruosa apparizione mi inseguiva e non mi dava tregua finché non cadevo stremato bagnando la terra di lacrime ancora più cocenti è tutto per un'ombra per un'ombra che un tratto di penna avrebbe reso di nuovo mia confuso incapace di giudizio e di discernimento ripensavo a quella sconcertante richiesta e al mio rifiuto il giorno lasciava il posto alla sera calmai la mia fame con bacche selvatiche e la mia sete alla vicina sorgente arrivata la notte mi straiai ai piedi di un albero l'umidità del mattino mi risvegliò da un sonno pesante durante il quale avevo sentito il mio respiro simile al rantolo di un moribondo non mi dispiaceva per niente pensare che bendel aveva sicuramente perso le mie tracce ne avevo nessuna intenzione di tornare in mezzo agli uomini dopo averli fuggiti terrorizzato come un timido animale selvatico passarono così tre giorni tormentosi al mattino del quarto mi trovai su una pianura sabbiosa e soleggiata e mi sedetti su un mucchio di pietre godendo la vista dei raggi luminosi dei quali ero stato privato così a lungo il mio cuore si nutriva del proprio muto tormento mi scosse un leggero fruscio mi guardai intorno pronto a fuggire ma non vedi nessuno cioè vedi scivolare sulla sabbia assolata un'ombra umana simile alla mia che vagando così da sola sembrava aver perso il suo padrone mi bruciò in cuore il desiderio prepotente di impossessarmene e mi precipitai per afferrarla sicuro di costringerla ad appartenermi e ad abituarsi a me se fossi riuscito a mettermi sulle sue orme facendola aderire ai miei piedi alla mia mossa l'ombra fuggì via leggera obbligandomi a una caccia sfibrante che riuscì a continuare perché sostenuto dalla speranza di potermi svincolare dall'orribile situazione nella quale mi trovavo essa fuggiva verso un bosco ancora lontano dove l'avrei sicuramente persa lo spavento mi strinse il cuore centuplicai i miei sforzi diedi le ali alla mia corsa guadagnavo terreno la vedevo sempre più vicina dovevo raggiungerla al suo improvviso fermarsi le balzai addosso come un leone sulla preda avvertili in attesa resistenza di un corpo umano mani invisibili mi diedero orribili colpi nel costato ma reagii fulminiamente spinto dal terrore con una spasmodica stretta di braccio intorno all'avversario invisibile trascinato dalla mia stessa foga caddi riverso sul terreno mentre sotto di me prendevano forma i lineamenti di un uomo che tenevo strettamente avvinghiato mi si chiedi allora tutto l'accaduto l'uomo aveva prima in mano il famoso nido di uccelli che rende invisibile chi lo porta lasciandone visibile l'ombra e adesso lo aveva lasciato cadere mi guardai intorno e vedendo subito l'ombra dell'invisibile nido la rincorsi e non manca il colpo stringevo la mia preda invisibile e per di più senza ombra anche l'uomo sollevatosi in fretta sollevatosi in fretta si guardava intorno per l'ampia distesa assolata cercando il fortunato che l'aveva vinto ma non poteva vedere né lui né la sua ombra della quale in particolare spiava la presenza non aveva infatti avuto modo di osservare ne poteva mai supporre che io fossi senza ombra quando si convinse di aver perso del tutto le mie tracce si strappò i capelli e si percosse in preda alla disperazione la preda appena conquistata mi dava ora la possibilità e aumentava il mio desiderio di ritornare tra gli uomini non mi mancavano o meglio non avevo bisogno di pretesti per scagionarmi nel mio intimo dall'accusa di un'azione vigliacca come il furto appena commesso ma per evitare pensieri del genere me la sviniai in fretta senza preoccuparmi di quel disgraziato i cui gemiti risuonarono ancora a lungo dietro di me ecco come si svolsero i fatti in quel lontano giorno o meglio come mi sembrò che si svolgessero bruciavo dalla voglia di andare nel giardino di mina per constatare con i miei occhi la verità delle affermazioni dell'odioso sconosciuto ma avevo perso l'orientamento e per rendermi conto della mia posizione salì sul vicino colle e vidi in basso il paese il giardino tanto desiderato il cuore prese a battermi con violenza e gli occhi mi si riempirono di lacrime ben diverse da quelle fino ad allora versate l'avrei rivista un'inquieta nostalgia rendeva più rapidi i miei passi invisibile raggiunsi alcuni contadini di ritorno dalla città e li sentii parlare di me di Rascal e dell'ispettore forestale non vogli ascoltare niente e prosegui il mio cammino penetrai nel giardino tremando d'angoscia ebbi l'impressione di sentire un risolino dietro di me mi guardai alle spalle rabbrividendo ma non riuscii a vedere nessuno andai avanti e mi sembrò di percepire ancora un fruscio leggero come di lievi passi umani ma continuavo a non vedere nessuno e pensai di essermi ingannato era ancora presto non c'era nessuno sotto il pergolato del conte Peter il giardino era ancora deserto percorsi i ben noti sentieri spingendomi fino alla soglia della casa percepii ancora più chiaramente il fruscio di poco prima al culmine dell'angoscia mi lasciai cadere su un sedile di fronte alla porta d'ingresso in pieno sole e mi sembrò ancora una volta che l'invisibile spirito maligno sedesse sogghignando vicino a me la porta si dischiuse e ne uscì l'ispettore forestale tenendo in mano alcuni fogli qualcosa di morbido mi sfiorò il capo mi guardai ancora intorno e mi prese un senso di raccapriccio vedendo accanto a me l'uomo dal vestito grigio col suo satanico sorriso mi aveva coperto con la sua magica cappa e ai suoi piedi si allungavano obbedienti le due ombre giocherillava negligentemente con la famosa pergamena e seguendo l'andirivieni preoccupato dell'ispettore nel giardino si piegò verso di me sussurrandomi confidenzialmente lei ha dunque accettato il mio invito ed eccoci qui riuniti sotto la stessa cappa bene bene ora però favorisca restituirmi il nido che non le serve più lei è troppo onesto per rifiutarsi di darmelo e non mi ringrazio le assicuro che è stato un piacere prestarglielo me lo tolse di mano senza nessuna fatica lo rimise in tasca e rise ancora così sonoramente da far trassalire l'ispettore deve ammettere continuò sardonico mentre io restavo pietrificato nel mio gelido orrore che la mia cappa è molto più comoda perché rende invisibile non solo chi la porta ma anche la sua ombra e non una sola ma quante se ne vuole portare dietro guardi qua oggi io ne ho due per esempio vede Schlemil quello che non si vuole accettare con le buone si è poi costretti a subire con le cattive maniere secondo me lei dovrebbe acquistare da me quella tal cosa riprendendosi la fidanzata finché è in tempo e mandare la scalla a penzolare da una forca sarebbe così facile finché c'è la corda mi diaretta ne cedo la mia cappa per di più era intanto arrivata la madre e i due vecchi cominciarono a discorrere che cosa fa mina piange povera sciocchina eppure non si cambia niente certamente no ma prometterla così su due piedi a un altro marito mio sei crudele no cara non vedi giusto non farà in tempo ad asciugare queste lacrime puerili e si troverà unita a un uomo ricco e stimato e ne sarà felice tanto da pensare alla pena di oggi come a un sogno vedrai che alla fine ringrazierà Dio e noi voglia al cielo che sia come tu dici certo moglie mina ha una dote considerevole ma dopo la storia con quel disgraziato credi che si presenterebbe un partito più conveniente di questo signor Rascal sai a quanto ammonta il suo patrimonio ha acquistato beni per 6 milioni in contanti qui nella zona e tutte proprietà esenti da ipoteca l'ho potuto constatare di persona era proprio lui a soffiarmi gli affari migliori quando investivo denaro per conto di quell'altro sciagurato inoltre ha delle cambiali su Thomas John per circa 3 milioni e mezzo devi aver rubato molto che razza di stupidaggini vai dicendo in una casa dove regnava lo sperpero egli ha saggiamente risparmiato ma un uomo che ha portato la livrea sciocchezze ad altra parte un'ombra irreprensibile hai ragione però l'uomo in grigio mi fissava ridacchiando la porta si dischiuse di nuovo e vidi Mina si appoggiava al braccio di una cameriera e piangeva silenziosamente pallida e smunta si adagiò su una sedia preparata per lei sotto i tigli e il padre le si sedette vicino le prese teneramente la mano e teneramente le parlò mentre lei era scossa dai singhiozzi mia cara mia buona bambina non vorrei certo rattristare il tuo vecchio papà che pensa solo al tuo bene capisco tesoro mio quanto tu sia sconvolta ma pensa che ti sei miracolosamente salvata da una sventura prima che scoprissimo il suo atroce inganno tu hai molto amato quell'indegno lo so Mina e non te ne faccio una colpa anch'io mia cara l'ho molto amato finché l'ho ritenuto un gran signore ora però vedi anche tu come tutto è cambiato come qualsiasi cagnolino ha la sua brava ombra e la mia unica la mia amatissima figlia avrebbe dovuto sposare un uomo no tu certo non pensi più a lui ascolta Mina c'è ora un altro che chiede la tua mano un onestuomo che non ha paura del sole che non è certo un principe ma ha una proprietà che vale dieci milioni cioè dieci volte più della tua un uomo che renderà sicuramente felice la mia piccina non rispondermi niente rimane la mia buona bambina obbediente lascia che il tuo caro papà pensi al tuo bene e asciughi le tue lacrime promettimi di concedere la tua mano al signor Rascal di me lo vuoi promettere la poverina rispose con voce spenta non ho più volontà né desideri su questa terra sia di me ciò che vuole mio padre nello stesso istante fu annunciato il signor Rascal che si presentò sfacciatamente mentre mine cadeva in deliquio l'odiato essere che mi stava al fianco mi guardò irritato e mi sbigliò rapidamente e lei sopporta una cosa simile ma che cosa le scorre nelle vene al posto del sangue mi graffiò leggermente la mano facendola sanguinare incredibile proprio sangue su firmi foglio pergamena e penna erano nelle mie mani voglio sottopormi al tuo giudizio caro sciamisso e non influenzarlo io stesso mi sono severamente giudicato e ho a lungo subito il tormento dei rimorsi questo istante critico e decisivo della mia vita continuamente presente ai miei occhi mi ha tenuto a lungo nel dubbio e nell'umiliazione amico mio ti è tanto sciocco da abbandonare la retta via si inoltre inavvertitamente in sentieri diversi che lo portano sempre più in basso inutilmente cerca la guida della stella polare non ha scelta deve seguire a suo malgrado il pendio declinante e rassegnarsi alla sorte dopo il frettoloso errore che mi aveva precipitato nella miseria l'amore mi aveva colpevolmente insinuato nel destino di un altro essere che cosa avrei potuto fare se non precipitarmi ad occhi chiusi dove avevo seminato rovina e dove ora si esigeva la mia pronta riparazione vivevo un attimo fatale non mi farà il torto di pensare che ritenessi il prezzo troppo alto e che cercassi di risparmiare quanto mi apparteneva no mio caro Adelbert no la mia anima era solo piena di un odio insopprimibile per i sotterfugi di quel dannato impostore forse mi sbagliavo ma la sua vicinanza mi faceva ribrezzo in quell'attimo come spesso è successo nella mia vita e come spesso succede soprattutto nella storia del mondo il caso subentrò nella realtà dei fatti col tempo mi sono riconciliato con la mia coscienza ma ho dovuto prima imparare a riconoscere la necessità delle cose e quel che più conta è il suo riflesso nel compiersi di un'azione nel realizzarsi di un avvenimento sono arrivato a vedere in tale necessità una specie di saggia provvidenza che permea di sé l'immenso ingranaggio del mondo rispetto al quale noi non siamo altro che ruote di rinforzo mosse e motrici nello stesso tempo ciò che deve essere accade ciò che doveva essere accaduto è tutto ad opera di quella provvidenza che ho imparato alla fine a rispettare nel mio destino e in quello di chi mi era più caro tornando al mio racconto non so se per la tensione emotiva acuita dal tumulto delle sensazioni o per esaurirsi delle mie energie fisiche sfibrate negli ultimi giorni da inconsueti disagi o meglio per il deleterio turbamento che tutto il mio essere provava alla vicinanza del grigio spirito maligno al momento di firmare svenni rimasi a lungo come morto i primi suoni che sentii nel riprendere i sensi furono scalpiccio di passi e bestemmie era buio quando riapri gli occhi e l'odioso persecutore cercava di rianimarmi brontolando che cosa significa questo comportarsi da donnicciola si alzi e concluda quel che ha da fare o ha cambiato idea e preferisce mettersi a piagnucolare a fatica mi risollevai e guardai muto intorno a me era sera inoltrata dalle finestre illuminate della casa giungeva una musica festosa gli invitati si aggiravano a gruppi per i viali un paio di persone si sedettero sulla panca dove ero stato sino a poco prima e attaccarono discorso seppi così dell'avvenuto matrimonio tra ricco signor Rascal e Mina tutto si era dunque compiuto mi strappai di dosso la cappa dello sconosciuto che subito scomparve e cercai muto e rapido di uscire dal giardino percorrendo il pergolato del conte Peter e nascondendomi nell'ombra fitta del boschetto il mio aguzzino invisibile non mi abbandonò e continuò a dirmi con voce tagliente ecco dunque che cosa si guadagna ad assistere una giornata intera al signore che ha i nervi fragili e devo anche fare la parte dello stupido bene signor Testardo fugga pure noi siamo tuttavia inseparabili perché lei ha il mio oro io la sua ombra si si è mai sentito dire che un'ombra abbia lasciato il suo padrone la sua ombra mi unirà a lei finché lei non mi farà il piacere di riprendersela liberando bene oggi lei non vuole farlo per un capriccio ma il fastidio e la noia di vedermi sempre al suo fianco la costringeranno a ritornare sulle sue decisioni sarà però tardi non si sfugge al proprio destino parlo a lungo sullo stesso tono cercavo inutilmente di sottrarmi a quella voce perentoria che continuava a fare del sarcasmo sulla mia ombra e sul suo oro e non mi riusciva di formulare nessun pensiero avevo preso delle scorciatoie poco frequentate per raggiungere la mia casa che stentai a riconoscere nessuna luce filtrava dalle finestre sfondate le porte erano chiuse non si vedeva neanche un servo in giro la sua risata funghigno eh già così va il mondo ma stia tranquillo troverà il suo Bendel qualcuno ha pensato bene a rispedirlo a casa così stanco e si sarà guardato dal tornare fuori avrà certo da raccontarle qualcosa orsù per questa volta buonanotte e arrivederci a presto quando mi ha ripetuto bussare si accese una luce e Bendel chiese dall'interno chi fosse a riconoscere la mia voce il poveretto non nascose la sua gioia spalancò la porta e ci gettammo l'uno nelle braccia dell'altro lo trovai molto diverso debole sofferente quanto a me i miei capelli erano divenuti completamente grigi attraverso le stanze devastate mi guidò in una camera interna che era stata risparmiata mi preparò da mangiare e quando fummo a tavola cominciò a piangere e raccontò di aver continuato a picchiare l'individuo dall'abito grigio così a lungo da cadere esausto e allontanandosi talmente da perdere le mie tracce non riuscendo più a trovarmi era poi tornato a casa dove la folla aizzata da Rascal dimentica del suo benefattore saziava intanto con furia selvaggia la sua brama di distruzione la servitù era fuggita la polizia mi aveva bandito come indesiderabile dandomi 24 ore di tempo per abbandonare la regione pendel cominciai tu conosci la mia miseria io già sapevo come stavano le cose circa la fortuna e il matrimonio di Rascal quel mascalzone causa prima di ogni mia sventura doveva aver carpito fin dall'inizio il mio segreto avido e venale aveva saputo insinuarsi presso di me procurandosi forse fino dai primi giorni una chiave dell'armadio in cui nascondevo le mie ricchezze e aveva accumulato a furie di ruberie una fortuna che oggi gli era indifferente a crescere pendel piangeva nel raccontarmi tutto ciò e pianse ancora per la gioia del mio ritorno e per la consolazione di vedermi reagire con filosofia a quella sventura le cui oscure conseguenze erano state in quei giorni per lui motivo di ansia incresciosa la disperazione aveva preso infatti in me un'apparenza di calma rassegnata l'enormità della sventura aveva seccato le mie lacrime e spento i miei gemiti e il destino inesorabile che mi si accaniva contro trovava in me un avversario ormai freddo e indifferente pendel cominciai tu conosci la mia miseria ho sbagliato e sono duramente punito ma non posso più tollerare di vedere legato al mio il tuo destino di innocente sellami un cavallo andrò via questa notte da solo e dico che tu rimanga qui e ti lascio tutto l'oro che è ancora in casa voglio andarmene solitario per il mondo ma se avrò fortuna e potrò assaporare un'ora sola di pace ti penserò non dimenticando di aver pianto sul tuo cuore fedele in ore dolorosamente difficili il mio compagno dovette piegarsi a questo estremo volere che lo riempiva di dolore e di spavento proteste preghiere lacrime mi trovarono infatti cieco e sordo il cavallo era pronto abbracciai un'ultima volta ben del piangente salì in sella e nelle tenebre della notte mi allontanai da quel posto funesto incurante della strada che il mio cavallo avrebbe preso perché sulla terra non avevo ormai più meta né desiderio né speranza ben presto mi si affiancò un viandante che guardata la groppa del mio cavallo mi chiese di poter riposare il suo mantello mi ringraziò educatamente del silenzioso assenso e prendendo lo spunto dall'elogio del mio cavallo si ingolfò si ingolfò in un'apologia della ricchezza e andò avanti a monologare per un pezzo esponendo le proprie opinioni sulla vita sul mondo sconfinò presto nella metafisica l'unica scienza capace a suo dire di sciogliere qualsiasi enigma pose le questioni in termini molto chiari e posso quindi risolverla amico mio tu sai che dopo aver seguito tutti i nostri filosofi ho dovuto riconoscere di non avere nessuna vocazione per la filosofia e mi sono in genere preclusa ogni speculazione in quel campo ho rinunciato ad approfondire molte cose e mi sono basato sul mio buon senso come anche tu mi consigliavi per seguire nel limite delle possibilità personali il mio cammino ora vedevo questo bravo parlatore innalzare con dubbio talento un edificio apparentemente solido ma non riuscivo a trovarci quello che cercavo e dovevo quindi considerarlo una pura opera d'arte efficace solo sotto il profilo estetico però lo ascoltavo volentieri perché la sua eloquenza mi distoglieva dal mio dolore e ne avrei di buon grado ammesso la superiorità se mi avesse conquistato l'anima oltre che la mente era intanto passato del tempo e inaspettatamente vidi il cielo smaltarsi a oriente delle splendide tinte dell'aurora fui preso da un fremito notando l'assoluta impossibilità di trovare un riparo nell'aperta contrada proprio nell'ora in cui più evidente sarebbe stato il riflesso delle ombre e per di più non ero solo dettai di sfuggita uno sguardo al mio compagno e fremetti nuovamente era l'uomo dall'abito griso sorrise della mia costernazione e disse senza aspettare che io parlassi facciamo coincidere una volta tanto i nostri interessi conformiamoci all'uso comune saremo sempre in tempo per dividerci se ci ha fatto caso questa che costeggia i monti è l'unica strada che lei possa percorrere non può scendere a valle e non vorrà certo ritornare al di là del passo ed è anche la mia strada la vedo già preoccuparsi per il sorgere del sole se lei sopporterà la mia compagnia ne presterò la sua ombra non c'è più ben della servirla potrei agevolmente prendere il suo posto non le sono simpatico e mi ricresce ma lei può ugualmente approfittare di me il diavolo non è poi nero come lo dipingono ieri lei mi ha irritato è vero ma non gliene porto rancore deve anche ammettere che finora non le ho reso più breve il cammino orsù riprenda la sua ombra a titolo di prova il sole era ormai alto e varie persone procedevano verso di noi a malincuore accettai la proposta ridacchiando fece scivolare in terra la mia ombra che riprese il suo posto sull'ombra del cavallo trotterellandomi accanto allegramente e riempiendomi di strane sensazioni mi imbattei in un gruppetto di contadini che si scoprirono il capo e mi cedettero il passo prendendomi per un ricco signore continuai a cavalcare col cuore intumulto adocchiando di sbieco con avidità quell'ombra che era mia e che pure avevo dovuto accettare in prestito da un estraneo anzi da un nemico che ora mi camminava di fianco non curante fischiettando persino il motivo di una canzonetta lui a piedi io a cavallo la tentazione fu violenta come una vertigine girai di improvviso le retini diedi il sprone e mi allontanai di gran carriera per un bel tratto l'ombra però non mi seguiva allo scarto del cavallo era scivolata via e aspettava sulla strada maestra dovetti nuovamente girare le retini umiliato in diavolo grigio finì imperturbabile la sua canzone mi sistemò l'ombra ridacchiando e mi spiegò che mi sarebbe rimasta attaccata solo il giorno in cui fosse tornata in mio legittimo possesso la sua ombra ci unisce la sua ombra ci unisce la sua ombra ci unisce continuò a dire lei non si può liberare di me un benestante come lei non può fare a meno dell'ombra l'unico appunto che si possa farle è di non averlo capito prima continuai il mio cammino per la stessa strada l'ombra che ora possedevo anche se solo in prestito espirando dovunque quel rispetto dovuto alla ricchezza ma con la morte nel cuore straordinaria era la prontezza del mio prodigioso accompagnatore che si spacciava per l'indegno servo dell'uomo più ricco del mondo e si dimostrava oltremodo svelto e disinvolto proprio come il maggiordomo di un agiato signore senza però lasciarmi un istante e perseguitandomi incessantemente a parole sicuro che alla fine anche solo per liberarmi di lui avrei concluso l'affare dell'ombra lo giudicavo abominevole e noiosissimo e arrivavo ad averne proprio terrore dal momento che mi aveva in suo potere dopo avermi riportato tra gli splendori del mondo che io fuggivo dovevo lasciare libero corso alla sua dialettica riconoscendo che aveva ragione un ricco doveva avere l'ombra e se volevo conservare la posizione che lui mi aveva fatto nuovamente apprezzare non vedevo che una via d'uscita ero però fermamente deciso poiché avevo ormai sacrificato il mio amore e perso ogni gusto di vivere a non vendergli l'anima neanche per tutte le ombre del mondo non sapevo quale sarebbe stata la conclusione della mia avventura e aspettavo un giorno eravamo seduti all'ingresso di una caverna meta obbligata per i turisti della zona così ampia che a buttarci un sasso sembrava che non potesse toccare il fondo percorsa a incommensurabili profondità da correnti sotterranee il cui rombo scrosciante arrivava fino alla superficie il diavolo come al solito si ingegnava a dipingermi con abbondanza di particolari e splendore di tinte un dirigentissimo quadro di quello che avrei potuto realizzare sulla terra in virtù della mia borsa magica se avessi soltanto ricomprato la mia ombra con i gomiti sulle ginocchia e il viso fra le mani ascoltavo quell'ipocrita dibattendomi fra la forza della volontà e quella della seduzione non sopportavo più quell'intima scissione e decisi di stringere i tempi signor mio lei dimentica che le ho permesso di restare con me a condizione di essere completamente libero se me lo comanda faccio subito fagotto minacciò di rimando tacqui e lui si apprestò a impacchettare la mia ombra mi sentì venire meno ma lo lasciai fare in silenzio fu il primo a riaprire bocca dopo la lunga pausa lei non mi può soffrire signore lei mi odia è evidente ma perché forse perché incontrandomi in aperta campagna pensò bene di rubare il mio nido dell'invisibilità o perché cercò di sottrarmi la sua ombra divenuta mia credendo che mi sarei fidato della sua onestà da parte mia io non la odio ha fatto e trovo del tutto naturale che lei si serva delle sue doti di forza e di astuzia la sua stessa mania di avere le più rigide convinzioni morali e di conformarsi nel pensiero al prototipo dell'onestà non trova in me un critico accanito in realtà io trasferisco nell'azione quella serietà che lei spreca nell'indagine mentale andiamo avanti ho forse minacciato di strozzarla se non avessi avuto la sua preziosissima anima alla quale tengo tanto le ho forse squinzagliato contro uno dei miei servi per riavere la borsa barattata con lei ho cercato di sfuggirla bene signor mio molto bene continuò dato che non avevo niente da replicare lei non mi può quindi soffrire e io non me ne ho a male è chiaro che dobbiamo separarci perché anch'io comincio ad averne abbastanza di lei per liberarla una volta per tutte della mia presenza così evidentemente sgradita le ripeto accetti il mio patto a questo prezzo risposi tendendogli la sua borsa no bene dunque ripresi con profondo sospiro insisto perché ci separiamo e la prego di non venirmi più tra i piedi dato che nel mondo c'è abbastanza posto per tutti e due rispose con il solito ghigno come vuole signor mio avverto però che lei potrà chiamarmi se avesse mai bisogno del suo umilissimo servo ne basterà scuotere la borsa e il tintinnio dell'oro mi avvertirà ciascuno pensa al proprio vantaggio in questo mondo come vede io ho pensato anche al suo offrendole ancora una possibilità anche se la sua ombra fosse completamente rosa dai tarli si sarebbe fra noi il saldo legame di questa borsa avendo il mio oro lei a me si serva quindi di me anche a distanza e sa bene quanto siano utili servici che rendo agli amici specialmente ai ricchi mi permetta solo di ripeterle che non potrà riavere la sua ombra che ha una condizione le sue ultime parole mi riportarono alla mente immagini del passato e gli chiese a bruciapelo se avesse chiesto una firma anche al signor John trattandosi di un così buon amico non è stato necessario mi schernì dov'è ora quel signore per Dio voglio saperlo infilò con riluttanza la mano in tasca e ne trasse per i capelli il fantasma esangue e sfigurato di Thomas John sulle cui lividi labbra si leggevano terribili parole in un ridito scagliai precipitosamente laurea borsa nella voragine e scongiura nel nome di Dio maledetto vattene e non ti far più vedere si alzò cupo e dilegua immediatamente dietro le rocce che chiudevano da ogni lato quell'angolo selvaggio rimasi lì seduto senza ombra e senza oro ma sereno alleggerito del peso enorme che mi gravava sul cuore se non avessi perso anche il mio amore o se almeno mi fossi sentito colpevole dopo quella perdita credo che avrei potuto dirmi felice ma non sapevo che cosa mi sarebbe accaduto mi tastai le tasche e sorrisi contando le poche monete che ancora contenevano e cavallo l'avevo lasciato più giù in una locanda e mi dispiaceva tornare a prenderlo o perlomeno avrei dovuto aspettare la sera avevo parecchie ore davanti perciò mi distesi all'ombra dei più vicini alberi e mi addormentai tranquillamente attraverso il diafano velo di un sogno vidi raggrupparmi si intorno le più ridenti immagini vidi mina con i capelli pieni di fiori sorridermi dolcemente e bendel farmi amichevoli cenni di saluto anche lui coronato di fiori e tante altre persone care mi sembrò di riconoscere anche te mio caro sciamisso dappertutto splendeva una viva luce ma nessuno aveva l'ombra e quel che è più strano un simile difetto non toglieva niente all'armonia della scena piacevole intreccio di fiori e canti di amore e di gaudio sullo sfondo di un boschetto di palme non mi riusciva di trattenere né di distinguere chiaramente le care immasini che mi alitavano intorno ma so che nel sogno era bellissimo e che facevo sforzi enormi per non svegliarmi in realtà ero già sveglio ma tenevo le palpebre chiuse per trattenere il più possibile quelle fragili apparizioni quando alla fine aprì gli occhi il sole splendeva a oriente avevo dormito tutta la notte mi sembra un presagio che mi ammonisse a non far ritorno alla locanda rinunciai di buon animo a quanto vi avevo lasciato e decisi di percorrere a piedi un ombroso sentiero alle pendici del monte rimettendomi al destino non mi guardai indietro non pensai assolutamente di rivolgermi a Bendel che pure avevo lasciato ricco mi vidi solo nella nuova parte che avrei dovuto sostenere sulla scena del mondo il mio abbigliamento era veramente modesto avevo indosso una vecchia giubba nera già usata a berlino e che non so come mi era accapitata tra le mani mentre facevo i preparativi per il viaggio un berretto in testa e un vecchio paio di stivali ai piedi alzatomi presi in ricordo di quel posto un nodoso bastone e iniziai il mio vagabondaggio nel bosco incontrai un vecchio contadino che mi salutò cordialmente e col quale scambiai quattro chiacchiere informandomi come un turista curioso prima di tutto della strada poi del luogo e dei suoi abitanti dei prodotti della montagna e di altri simili argomenti il vecchio aveva la risposta pronta ad ogni domanda arrivammo all'alveo di un torrente che era stralipato inondando buona parte del bosco rabbrividi notando che dovevamo percorrere un ampio tratto di cammino in pieno sole e lasciai che il mio compagno mi precedesse questi però verso la metà di quella zona per me critica si girò per parlarmi dell'alluvione notò in un lampo che cosa mi mancava e si interruppe nel bel mezzo del racconto ma com'è possibile il signore non ha l'ombra purtroppo purtroppo rispogli con un sospiro nel corso di una lunga e grave malattia ho perso i capelli le unghie e l'ombra vedete buon uomo ora ho di nuovo i capelli e le unghie anche se gli uni sono tutti bianchi e le altre stentano a crescere ma l'ombra non accenna ancora a rinascermi ai ai replicò quello scuotendo la testa è proprio un guaio non avere l'ombra il signore deve aver avuto una gran brutta malattia davvero non riprese più il suo racconto e alla prima biforcazione del sentiero si allontanò senza una parola lacrime brucianti mi bagnarono ancora le guance e ritrovai tutta la mia amarezza continuai il cammino col cuore chiuso e non cercai più la compagnia dei miei simili mi mantenevo nella parte più ombrosa del bosco e dovevo a volta aspettare ore intere per poter attraversare qualche zona scoperta senza che alcuno mi vedesse a sera cercavo rifugio nei villaggi era mia intenzione raggiungere una miniera nelle viscere del monte dove speravo di trovare lavoro perché a prescindere dal fatto che ora dovevo procurarmi da vivere intuivo chiaramente che solo un impegno costante avrebbe potuto distogliermi dai miei funesti pensieri un paio di giornate piovose facilitarono il mio cammino a scapito però degli stivali le cui suole meglio si addicevano al conte Peter che a un povero viandante in poco tempo fui ridotto a camminare scalzo mi era assolutamente indispensabile un nuovo paio di stivali e il mattino dopo sbrigai con la massima diligenza quell'affare al mercato di un vicino villaggio in una delle baracche notai che si vendevano scarpe nuove e usate feci la mia scelta e contrattai a lungo dovetti rinunciare per l'enormità del prezzo a due stivali nuovi che mi piacevano molto e mi accontentai di un paio di seconda mano ancora in buono stato un bel ragazzo biondo e riccioluto dopo che ebbi pagato in contanti mi sorrise e me li consegnò augurandomi buon viaggio li infilai subito ai piedi e mi allontanai dal paese uscendo dalla porta settentrionale profondamente assorbito dai miei pensieri guardavo appena dove mettevo i piedi speravo di raggiungere prima del tramonto la miniera e non sapevo ancora sotto quale nome avrei dovuto presentarmi dopo neanche duecento passi mi accorsi di essermi smarrito perché mi trovavo in un bosco di abeti secolari che nessuna accetta doveva aver mai violato feci ancora qualche passo e fui circondato da squalli da rocce nevose sulle quali attecchivano soltanto muschi e sassifraghe spirava un'aria gelida e il bosco di abeti era sparito dopo altri pochi passi sentì intorno a me una quieta mortale il ghiaccio si dilatava in un'estensione enorme e una spessa nebbia ristagnava nell'aria il sole fiammeggiava sanguigno al margine estremo dell'orizzonte e faceva un freddo insopportabile non sapevo spiegarmi che cosa mi fosse successo il gelo mi costringeva a camminare in fretta sentì dapprima il fragore di acque lontane ma in un solo passo arrivai sulle sponde ghiacciate di un oceano gremite di foche che al mio arrivo si precipitarono nelle acque emettendo il loro caratteristico grido gutturale seguendo la costa vedi ancora rocce e paesi boschi di betulle e di abeti dopo un paio di minuti di corsa il caldo divenne insopportabile mi guardai ancora intorno e vidi gelsi in fiore e colture di riso mi adagiai all'ombra e detti un'occhiata all'orologio non era passato neppure un quarto d'ora da quando ero uscito dal villaggio credetti di sognare e mi morsi la lingua ma ero sveglio sul serio ad occhi chiusi cercavo di concentrarmi nei miei pensieri ma fui riscosso da voci nasali che pronunciavano strane sillabe due cinesi dagli inconfondibili tratti somatici e dai caratteristici costumi mi salutavano nel loro idioma con squisita gentilezza feci due passi indietro e non li vidi più e tutto il paesaggio cambiò intorno ancora alberi e boschi invece delle risaie osservai attentamente le piante e le erbe che fiorivano da ogni lato e riconobbi la flora tipica del sud-est asiatico feci un passo per avvicinarmi a un albero ma bastò perché tutto nuovamente cambiasse alzai allora il piede con la lentezza di una recluta durante l'esercitazione spostandomi a piccoli passi e davanti ai miei occhi stupefatti si dispiegarono con una prodigiosa mutevolezza paesi campagne prati monti steppe e deserti non c'era dubbio avevo ai piedi gli stivali delle sette leghe caddi sulle ginocchia muto e pensoso versando lacrime riconoscenti alla limpida improvvisa visione del mio futuro un antico errore mi escludeva da ogni contatto umano e in compenso ero indirizzato verso la natura oggetto da parte mia di un incessante amore la terra sarebbe stata il mio giardino lo studio il sostegno della mia vita la scienza il suo traguardo non si trattava di prendere una decisione ma di accettare un'offerta da quel momento mi sono dedicato con passione infinita e con scrupolosa fedeltà alla descrizione di esemplari di ogni specie vegetale la cui immagine avevo chiara e completa nella mia mente ed ero felice se riuscivo a far coincidere la mia rappresentazione con l'originale mi alzai in fretta per rendermi conto con un rapido sguardo del mio nuovo campo d'azione mi trovavo sull'altipiano del Tibet e il sole che poche ore prima avevo visto spuntare qui tramontava nello splendore del tramonto seguendo nella parabola percorsi l'Asia da est a ovest penetrai nell'Africa e la perlustrai ripetutamente in ogni senso avido di novità mi riempirono di stupore le vecchie piramidi e i meravigliosi templi dell'Egitto e le cento porte di Tebe e gli eremi della Tebaide sede degli anacoreti cristiani questi ultimi mi colpirono in particolar modo e sentii chiaramente che anche io avrei potuto prendervi dimora scelsi una grotta delle più nascoste sufficientemente spaziosa comoda e inaccessibile per gli sciacalli la preparai per un futuro soggiorno poi ripresi il mio prodigioso viaggio attraverso le colonne d'Ercole arrivai in Europa feci una rapida passeggiata lungo le sue regioni da sud a nord e dall'Asia settentrionale calpestando i ghiacci del polo passai in Groenlandia e nelle due Americhe percorrendole in tutta alla loro estensione l'inverno che regnava nell'emisfero australe mi fece però prontamente retrocedere dal Capo Horn verso i tropici mi fermai brevemente in attesa dello spuntare del sole a oriente dell'Asia e ripresi quindi il mio vagabondare lungo il litorale del continente americano segui i dislivelli delle ande e delle montagne rocciose i più alti che si conoscano sul nostro pianeta procedendo con molta cautela e a volte col respiro affannoso da una cima all'altra ora su vulcani in fiamme ora su calotte nevose finché dalla vetta più alta del monte Sant'Elia tornai in Asia scavalcando lo stretto di Bering anche qui camminai lungo le sinuose coste orientali esplorando con la massima attenzione la zona insulare per scoprirne le possibilità di accesso dalla penisola di Malacca gli stivali mi portarono a Sumatra Java Bali e Lombok di cui spesso a rischio della vita e purtroppo sempre in vano mi sforzai di raggiungere al di là delle numerose isole e isolette che pullurano nell'oceano da un lato Borneo e le Filippine dall'altro l'Australia ma dovete rinunciarvi esausto mi accoccolai sull'estremo promontorio di Lombok e rivolgendo lo sguardo verso quella parte che mi era vietata piansi per i limiti che vedevo imposti alle mie indagini la meravigliosa terra australiana così essenziale per la conoscenza della flora e della fauna del mondo intero e il mar dei coralli con le sue isole di zoofiti mi erano dunque preclusi condannando fin dall'inizio alla frammentarietà ogni mio tentativo di ricerca e di studio mio caro Adelbert a che cosa si riduce ogni umano sforzo spesso nei rigidi inverni dell'emisfero australe muovendo da Capo Horn ho tentato di percorrere a ritroso in direzione a ovest oltre i ghiacci dell'antartide quei 200 passi circa che mi separavano dalla Tasmania e dall'Australia senza pensare certo al ritorno e incurante del pericolo che quell'ingrata terra si richiudesse su di me come il coperchio di una bara ho fatto sforzi enormi che ora critico aspramente procedendo con grave rischio su banchi di ghiaccio galleggianti sfidando il gelo e la violenza dell'oceano non sono però mai riuscito a raggiungere l'Australia dopo ogni tentativo ritornavo sul promontorio di Lombok e guardando sempre verso sud e verso est piangevo come dietro le solide sbarre del mio carcere mi allontanai finalmente da quel posto per far ritorno col cuore triste all'interno dell'Asia pagai sconsolato seguendo il corso del sole verso occidente e raggiunsi a notte la tebaide e l'abitazione che vi avevo scelto il giorno prima dopo un breve riposo quando in Europa fu giorno cominciai a pensare a quello che mi sarebbe stato necessario innanzitutto dei freni perché avevo sperimentato il disagio di non poter accorciare il passo per osservare gli oggetti più da vicino un paio di pantofole calzate sugli stivali ne avrebbero frenato la corsa e da quel giorno infatti ne portai sempre dietro non uno ma due paia perché molto spesso perdevo quelle che avevo ai piedi nella furia di togliermele quando leoni iene e uomini mi disturbavano durante il mio lavoro mi serviva un cronometro e per la breve durata dei miei giri destinai a quell'uso il mio ottimo orologio mi mancavano ancora un sestante alcuni strumenti di fisica e parecchi libri e per procurarmeli fui costretto ad andare parecchie volte a Londra e a Parigi che fortunatamente trovai sempre avvolte in un velo di nebbia esaurita la scorta dell'oro prodigioso usavo come merse di scambio l'avorio che trovavo facilmente in Africa e del quale sceglievo naturalmente le zanne più piccole e più facilmente trasportabili ben presto ebbi a mia disposizione tutto il necessario e cominciai la mia nuova vita di naturalista privato percorrevo la terra in lungo e in largo misurando nelle altezze la temperatura interna ed esterna osservando nella fauna e la flora passavo dall'equatore ai poli da un emisfero all'altro sommando e confrontando le mie esperienze mi nutrivo generalmente delle uova di struzzo che mi procuravo in Africa o di quelle di uccelli marini che trovavo sulle coste nordiche e tra i frutti tropicali prediligevo datteri e banane il tabacco mi offriva il surrogato di una felicità che mi era negata e alla mancanza di contatti umani suppliva l'affetto di un fedele barboncino che faceva la guardia alla mia grotta e ogni volta che vi rientravo carico di tesori da studiare mi saltava addosso felice facendomi quasi umanamente comprendere che non ero solo sulla terra un nuovo caso mi avrebbe però presto riportato fra gli uomini mi trovavo un giorno sulle coste della Norvegia intento a raccogliere alghe e licheni quando da un anfratto roccioso mi si parò improvvisamente davanti un orso gettate via le pantofole volevo rifugiarmi su un'isola che mi stava di fronte passando su uno scoglio affiorante dalle acque calcai solidamente lo scoglio con un piede ma quando feci per appoggiarvi l'altro precipitai in mare non mi ero accorto che una pantofola era rimasta infilata sullo stivale il freddo improvviso mi intirizzi e mi salvai a stento raggiunta la terra corsi il più in fretta possibile verso il deserto libico per asciugarmi bene al caldo ma la lunga esposizione ai raggi del sole mi provocò un insostenibile malessere e me ne tornai al nord barcollando provavo qualche sollievo solo spostandomi rapidamente e corsi ancora da ovest a est e da est a ovest passi rapidi e malfermi ora alla luce del giorno ora brancolando nella notte da una parte in piena estate dall'altra dai rigori invernali non so quanto poti durare quel mio brancolare sulla superficie terrestre e mie vene bruciavano per una violenta febbre e sentivo sgomento che le forze mi abbandonavano disgraziatamente nella mia corsa sbadata dovetti pestare i piedi a qualcuno facendogli veramente molto male perché a un tratto mi sentii urtare violentemente i caldi lungo disteso ripresi i sensi in un comodo letto allineato con molti altri uguali in una bella sala ampia una persona vegliava il mio capezzale e altre si aggiravano premurosamente nella sala passando da un letto all'altro mentre sentivo queste ultime arrivate davanti al mio letto parlare di me chiamandomi numero 12 vidi sulla parete di fronte una lapida in marmo nero vi era inciso a grandi lettere d'oro il mio nome Peter Schlemil non c'era nessun dubbio seguito da altre due righe di lettere che ero però troppo debole per decifrare richiusi gli occhi e sentii una voce leggere in tono alto e chiaro un testo nel quale ricorreva ancora il mio nome Peter Schlemil ma del quale non afferrai il significato vidi anche fermarsi ai piedi del mio letto un distinto signore e una bellissima donna vestita di nero le cui visionomie non mi sembravano nuove col trascorrere del tempo ripresi le forze ero per tutti il numero 12 e la mia lunga barba mi dava l'aspetto di un ebreo ma non per questo ero curato con minor sollecitudine nessuno aveva inoltre notato la mancanza della mia ombra mi dissero che gli stivali con tutto il resto della mia roba erano in un posto sicuro e mi sarebbero stati resi alla mia guarigione il luogo il luogo che mi ospitava era chiamato Schlemilium e le quotidiane letture in cui ricorreva il mio nome erano esortazioni alla preghiera in memoria del benefattore al quale era stato intitolato quel luogo di cura il signore distinto che avevo notato accanto al mio letto era Bendel la bella dama era Mina guarì senza essere riconosciuto nell'ospedale che portava il mio nome e venne inoltre informato di molte novità ero nella città natale di Bendel nella quale egli aveva costruito col mio oro non più maledetto quest'opera in cui tanti infelici mi benedicevano uno sfortunato processo era costato la vita a quel criminale di Rascal e Mina era quindi vedova il suo patrimonio era sfumato i genitori erano morti e lei viveva sola in questo paese dedicandosi ad opere di assistenza un giorno si fermò con Bendel proprio all'altezza del mio letto numero 12 e potei seguire il loro dialogo perché si espone così spesso a quest'aria malsana mia cara signora il destino è stato così duro con lei il destino è stato così duro con lei da farle desiderare la morte no signor Bendel ma ho vissuto un lungo intimo sogno e dopo essermene discossa ho trovato la pace non ho più nessun desiderio non temo la morte e guardo con serenità sia al passato che al futuro anche lei del resto non è intimamente felice di salvire ora il suo padrone e amico in modo tanto nobile grazie a Dio sì mia cara signora quale destino singolare è stato il nostro abbiamo sconsideratamente sorseggiato tutte le gioie e i dolori della vita il calice ora vuoto forse finora abbiamo superato soltanto una prova e cominciamo adesso a vivere realmente forti della nostra esperienza questa vita reale è ben diversa dalle illusioni di un tempo delle quali non ci augureremmo mai il ritorno anche se siamo stati in fondo contenti di averle vissute un ulteriore motivo di serenità è per me il pensiero che forse anche per il vostro vecchio amico le cose sono cambiate in meglio e sono sicura concluse la bella vedova e si allontanarono tutti e due quelle parole mi avevano fatto una profonda impressione ed ero seriamente indeciso se rivelare la mia identità o andarmene senza farmi riconoscere presi infine la mia soluzione mi feci portare carta e matita e scrissi il vostro vecchio amico sta molto meglio di prima ed espia in pace la sua colpa sentendomi in forze chiesi quindi i miei abiti e mi fu consegnata la chiave dell'armadietto dove era riposta tutta la mia roba rivestitomi misi a tracolla sulla vecchia giubba nera la mia sacca da botanico ed ebbi la piacevole sorpresa di ritrovarvi i licheni del nord calzai gli stivali deposi sul letto il foglio che avevo scritto e appena fuori dell'uscio ero già lontano in cammino verso la tebaide lungo le coste della siria che avevo percorso l'ultima volta allontanandomi di casa mi vedi correre incontro il mio fedele cane figaro la povera bestia dopo avermi in vano atteso nella grotta aveva voluto certo seguire le mie tracce mi fermai in tenerito al mio richiamo mi saltò addosso abbaiando e manifestandomi in mille modi la sua gioia sfrenata l'ho presi tra le braccia perché era impossibile che riuscisse a seguirmi e ci ritornammo a casa trovai ogni cosa al suo posto e ripresi gradatamente le mie occupazioni e la mia vita di un tempo lasciai però trascorrere un anno intero prima di avere nuovamente la forza di recarmi al polo e così scorre anche adesso la mia vita caro sciamisso i miei stivali non si consumano come all'inizio avevo temuto ricordando quelli della ridutissima storia del famoso Tichius de Rebus Gesti Pollicilli e la loro forza è immutabile è la mia forza che declina ma mi conforta il pensiero di averla spesa per un nobile scopo fin là dove i miei stivali potevano arrivare sono riuscito ad approfondire più di chiunque la conoscenza della terra con la sua conformazione le sue montagne la temperatura le variazioni atmosferiche il suo magnetismo la vita su di essa e in particolare quella del mondo vegetale ho riassunto le mie cognizioni con la maggior chiarezza possibile in parecchie opere e ho buttato giù brevemente in alcuni trattati i miei giudizi e le mie ipotesi nelle mie opere geografiche ho esaminato in particolare le regioni interne del continente africano e di quello asiatico le coste orientali di quest'ultimo e le terre dell'artide la mia storia Styrpium plantarum utriusque orbis è un importante frammento della flora universalis terre e fa parte del mio sistema natura in questo campo posso vantarmi di avere perlomeno triplicato il numero delle specie già conosciute e di avere anche contribuito allo studio dell'ordine e della geografia dei vegetali attualmente lavoro alla mia fauna disporrò le cose in modo che prima della mia morte questi manoscritti siano depositati presso l'università di Berlino quanto a te mio caro sciamizzo ti ho scelto come custode della mia prodigiosa storia affinché altri dopo la mia scomparsa possano trarne utili insegnamenti e tu mio caro amico se vuoi vivere fra gli uomini sappi apprezzare l'ombra prima che il denaro se al contrario vuoi vivere per te solo e per la parte migliore di te stesso allora ogni consiglio è superfluo ad Adelbert von sciamizzo francesi e tedeschi sono nuovamente amici muovono gli uni contro gli altri con le armi in pugno infiammati da eroico furore noi due ci incontriamo al di sopra di questi umani scontri e una fiamma più pura ci illumina salute a te mio valente e fido amico e a quello che ci tiene uniti Fouché 1813